io sto registrando, poi alle brutte lo carico da registrazione direttamente ok se per voi va bene possiamo andare avanti magari se c'è modo di avvertire chi sta a YouTube lo scrivo direttamente Attilio puoi scriverlo tu musica sei ufficialmente ok quindi possiamo andare avanti che dite? eh sì sono l'unica cosa le domande per esempio come ce le fanno se non siamo in diretta affettiva le domande le possono scrivere comunque e qualcuno ce le legge sì ma se non sono in diretta sì l'unica cosa eh ma rimangono comunque registrate forse forse sta partendo il Qub lo streaming del Qub vecchio penso e perché? non lo so sì è partito il corso di programmazione siamo facendo tutto il repertorio vedi com'era quando ci si poteva riunire che bello che bello è scomparsa proprio diciamo la io io direi che voi è andati avanti tanto come registriamo nel senso che a questo punto se aspettiamo che YouTube riparta potrebbe volerci tempo ok allora direi di andare avanti se gli altri relatori sono però hai scritto Lorenzo hai scritto un messaggio se sei riuscito a scrivere un messaggio nella chat scusami Attilio sì l'ho scritto un messaggio nella chat in cui si diceva che ah ok perfetto perché non l'ho visto allora sì va bene possiamo andare avanti ok allora a questo punto presento io qual è il quadro della situazione relativamente all'ultima submission dell'inventario nazionale di cassetta che abbiamo fatto condivido lo schermo scusate volevo solo dirvi che poi fra poco vi lascio però come dire buona continuazione va bene grazie grazie mille allora ovviamente nell'ambito dell'inventario nazionale delle emissioni vi parlerò soltanto della parte relativa a cropland e grassland e in particolare alla parte dello stock di carbonio nel suolo e di come abbiamo messo su il processo di stima questo semplicemente per diciamo noi più o meno è una cosa che dovrebbe essere nota a tutti almeno tra i relatori lo lascio tra il materiale semplicemente per dire che come al solito abbiamo un processo di reporting ormai pluriannuale che riguarda due ambiti cioè in ambito UNFCCC che è la convenzione quadro sui cambiamenti climatici quindi il reporting è annuale e riguarda alcuni riguarda alcuni settori ben definiti e ha tutta una serie di impegni tra cui la review annuale differente invece è il protocollo di Kyoto in cui il reporting è sempre annuale c'è sempre un processo di review ma per quanto riguarda il cosiddetto settore l'UCF che è uso del suolo cambiamento di suolo del suolo e selvicoltura non si parla più di categorie ma di attività e vedremo dopo quali e in particolare alla fase di reporting nel protocollo di Kyoto si affianca una fase di contabilizzazione e vediamo dopo quale l'inventario nazionale gas serra quindi che viene predisposto sia in ambito UNFCCC che in ambito protocollo di Kyoto include quindi un settore che è il settore uso del suolo cambiamento di suolo e foresta detto anche dell'UCF che prevede quindi la stima delle emissioni e degli assorbimenti di ogni categoria inclusa in questo settore ogni pool di carbonio dove per pool di carbonio come sapete bene si intende fondamentalmente la biomassa epigea la biomassa ipogea la necromassa la lettiera e il suolo ovviamente ogni categoria poi avrà le proprie specificità e fondamentalmente quello che viene fatto per quanto riguarda la stima del settore parte dalla classificazione dell'uso del suolo che deve partire soprattutto per tenendo in considerazione la stima del del carbon del carbon pool suolo appunto dal 1971 perché c'è un periodo di transizione che deve essere considerato il periodo di transizione di default sono appunto i 20 anni dell'EPCC e arriva nella submission di quest'anno al 2018 una volta definita e classificato l'uso del suolo vengono definite le variazioni annuali di uso del suolo e vengono costruite delle matrici di variazioni di uso del suolo con due a doppia entrata praticamente una matrice che è annuale che dà la variazione annuale tra una categoria e l'altra e una matrice che invece tiene conto appunto del periodo di transizione di 20 anni di cui parlavo prima una volta messe a punto le matrici utilizzando categoria per categoria le metodologie che sono descritte nel documento metodologico dell'inventare nazionale di Tassera che è il NIR di cui poi vi darò il link per chi non per chi non lo conosce vengono appunto stimate le emissioni e gli assorbimenti per ogni categoria dicevo prima una dualità di reporting quindi nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici le categorie di cui parliamo sono cropland nelle fatti specie cropland remaining cropland land converted to cropland e la stessa cosa per Drastran nell'ambito del protocollo di Chioto le due categorie su cui ci concentriamo oggi sono cropland management e grazing land management ora se è vero che cropland management ha una corrispondenza quasi univoca con cropland la stessa cosa non può dirsi per grazing land management che può considerarsi diciamo una di cui di tutta la categoria di Grastran dove sono incluse per esempio nell'ambito della condizione sono in quadro sui momenti climatici anche le altre terriboscate che ovviamente non sono incluse nell'attività di portare sull'ambito presi le managini così come dicevo prima la fase di riporti avviene per tutte e due diciamo sia per la condizione di quadro sui momenti climatici che per il protocollo di Chioto nella c'è una fase di contabilizzazione di accounting che non avviene per la condizione di quadro sui momenti climatici ma avviene per quanto riguarda il protocollo di Chioto e ogni categoria ogni attività di portare nell'ambito del protocollo di Chioto ha una regola di contabilizzazione in particolare per quanto riguarda il proprio management e il crescente management la regola è il cosiddetto net net accounting ovvero la il confronto con un anno base che è definito per l'Italia e per quasi tutti i paesi di Alixone come il 1990 questa è la serie storica delle emissioni e assorbimenti di tutto il settore dell'UCF dal 1990 al 2018 con le categorie di emissioni e di assorbimenti ovviamente la parte da produrre gli assorbimenti forestali portati in blu e sono significativi però anche le emissioni della parte relativa al grassland che vedete nella parte alta del grafico del grafico ho riportato sul stesso grafico gli andamenti delle superfici per portare l'incendio in grassetto sono le superfici forestali invece in quest'altro tratteggiato sono le superfici diciamo di grassland che in cui ovviamente anche le parti di altre terre imposcate questo semplicemente per dire che c'è una forte relazione ovviamente tra l'andamento annuale degli incendi e l'andamento emissivo del settore per quanto riguarda il suolo ovviamente tutto il processo di stima parte da questa equazione che ovviamente voi conoscete bene che fondamentalmente mette in relazione l'uso del suolo le pratiche gestionali e l'inputo di sostanza organica in particolare partendo dal stock di riferimento il stock ref che è relativo al terreno su cui si sta operando una determinata cultura per costruire quello che è il contenuto di carbone nel suolo organico che tiene conto anche di questi tre fattori che sono dei fattori che tengono conto sia dell'uso del suolo dell'FLU sia dell'attivo di gestione che dell'input di sostanza organica per il processo di simo fondamentalmente è partito per quanto riguarda il cropland dalla definizione di quali pratiche gestionali considerate questo perché basandosi sull'assunto che ovviamente ogni variazione di stock di carbonio è connessa a una variazione di pratiche gestionali ipotizzando quindi che a parità di pratiche gestionali non ci sia una variazione diciamo misurabile di stock di carbonio quindi sono state definite una serie di sono state recuperate una serie di pratiche gestionali che poi come vedete nella slide sono state sono quelle individuate nell'ambito dell'olivio agricola comune e per ogni una di queste pratiche gestionali è stata individuata una fonte dati per cui per quanto riguarda i seminativi abbiamo seminativi ordinari biologici gestione integrata set aside e le pratiche per le cultivazioni arboree invece abbiamo sostanzialmente ordinarie la biologica e la gestione integrata quasi questo immagino ci sia un focus da parte del gruppo ESMEA che in qualche modo si può analizzare su quali sono come sono state definite queste pratiche quindi una volta definite le pratiche per ognuna di queste pratiche sono state individuate nell'ambito delle linee del PCC del 2006 quali sono quegli fattori di uso del suono di management di input che più sono relativi alle varie pratiche individuate e definiti in SOCREF sulla base di un nuovo etatto di diversi layer in particolare le zone climatiche del PCC con il cover e la parte dell'uso del suono del 2013 si è riuscita a livello regionale a individuare dei SOC di riflettimento per ognuna delle pratiche agricole considerate nell'ambito sia dei cimiativi che delle appore quindi su questa base è stato possibile stimare secondo la metodologia del PCC e l'equazione a cui prima facciamo riferimento il carbon soft change in questo caso per crop di mini crop in cui sono state considerate tutte le variazioni tutte le variazioni di pratiche agricole quindi per esempio qui abbiamo WDFROPS cioè le arborie utilizzando una conversione tra ordinaria agricoltura ordinaria e agricoltura integrata oppure annual crops agricoltura ordinaria sulle pratiche e conservative qui invece agricoltura ordinaria per agricoltura integrata e così via quindi la somma di tutte queste variazioni ha determinato quindi una variazione di stock di crop analogo discorso è stato fatto per la parte di land convert to crop dove ovviamente si è tenuto in considerazione i ventani di variazione quindi i ventani di variazione che in qualche modo congelano la superficie che sta cambiando tutto il suolo fino a determinare poi l'attribuzione della superficie nella nuova categoria quindi la desertazione di tarboglio e sono state considerate che hanno questo la conversione di grazing land quindi delante della categoria grassland in seminativi e in arborie la somma di queste due quantità ha dato luogo a questo ondamento di variazioni di stock di carboglio dal 1990 al 2018 per tutta la categoria propland divisa anche qui in propland di micropland e l'enco verso il propland con una variazione che va da 1.316 chilotonnellate di CO2 a 2.206 chilotonnellate di CO2 questo per quanto riguarda la categoria propland esattamente lo stesso discorso è stato fatto anche per il classland per cui sono state individuate le due pratiche di gestione fondamentale quindi di grazie l'end abbiamo semplicemente la parte ordinaria e la parte biologica individuate le fonti piatti anche qui per la parte biologica ovviamente il gioco è stato abbastanza facile perché abbiamo il sistema nazionale di informazione per la ricoltura biologica e l'ordinario invece viene sempre da Fonte Istat sono state individuate e selezionati i tre fattori relativi alle pratiche gestionali e sulla base dei SOC di riferimento calcolati così come per la parte di Proflam sono stati assegnati sono stati definiti dei SOC a livello regionale per il gresino e il gresino biologico questi SOC sono stati alla base del carbon change per il rimane in grassland considerando appunto la variazione all'interno della singola categoria quindi il grassland gestito al natural grassland e il grassland che entra in alcuni casi può uscire dalla gestione biologica che ha determinato appunto l'andamento della pressione dell'orsocchio di carbon analogamente per la parte di land convert to grassland è stato definito l'input di arie che vengono fondamentalmente da cropland quindi sia seminativi che albore che possono essere trasformati in other woodland grassland o sia gestito o non gestito e questo ha determinato il conto analogamente a quanto fatto per il cropland la variazione totale di stock di carbonio per quanto riguarda la categoria grassland rimane in grassland che per quanto riguarda le convertite in grassland con variazioni che vanno appunto dai 1634 chilotonellate di CO2 del 1990 ai 6859 chilotonellate di CO2 nel 2018 da terapesente in cui stiamo parlando di carbonio e quindi queste quantità con il segno più sono possiedarsi assorbimenti tutto quello che viene riportato nell'ambito del protocollo di CO2 è assolutamente analogo a quanto è coerente con quanto riportato nell'ambito della convenzione riguardo sui cambiamenti climatici per cui sia per crop plan management che per grazing management abbiamo individuato utilizzato lo stesso set di pratiche gestionali nell'ambito di crop plan management suddivise per seminativi arbori con lo stesso elenco abbiamo definito e utilizzato il periodo di transizione di default delle PCC pari a 20 anni e quindi abbiamo poi considerato gli SOC a livello regionale analogamente a quanto fatto nelle categorie della convenzione di quadrosi cambiamenti climatici l'unica differenza che è una bella differenza per quanto riguarda i protocolli di chioto è l'applicazione della cosiddetta regola one schioto o un schioto nel senso che nel momento in cui una terra è stata inclusa nell'ambito per esempio della categoria crop management anche se viene convertita a un altro uso del suono e non fa parte di nessuna delle attività oggetto della contabilizzazione nell'ambito del protocollo di chioto deve essere mantenuta all'interno della stessa categoria crop management qui ho portato un esempio perché è un esempio che abbiamo avuto ovvero la conversione di similativi in settlements che fondamentalmente sono zone urbane quindi anche in questo caso anche se appunto quella terra fondamentalmente non viene più coltivata però non può uscire dal proprio management dall'attività e deve essere riportata in questo caso come emissioni sempre all'interno della categoria analogo discorso per il grazing management ovviamente facendo sì che non ci sia un doppio conteggio di terre o viceversa che non ci sia un'emissione soprattutto negli scambi che ci sono e sono frequenti tra le categorie crop e crescent management quindi questo ha comportato una definizione di un'area che ovviamente per quanto riguarda per esempio il crop management è mantenuta costante dal 2013 al 2018 proprio perché anche tutte le terre che in qualche modo fuoriescono dalla categoria devono essere comunque mantenute all'interno delle attività andando a conteggiare emissioni e eventuali assorbimenti sempre all'interno dell'attività proprio al management diverso diverso intercato per crescent land management perché comunque l'area è ipotizzata sempre in crescita e quindi ha un corso diverso questo approccio ha portato alla contabilizzazione per adesso provvisore perché la contabilizzazione effettiva per il protocollo di chiodo per il secondo un rapporto informe che sono informati che vengono trasmessi e preparati alla convenzione agroconi di chiodi all'organizzazione sui problemi climatici e questa praticamente nelle colonne dal 2013 al 2018 sono riportate le emissioni e gli assorbimenti annuali relative a ogni attività in particolare nelle colonne nelle ultime due righe crop plan management e crescent management abbiamo appunto le emissioni e gli assorbimenti relativi a ogni annualità e poi nell'ultima colonna che si chiama anti-scot si viene applicata la regola tipo di stabilizzazione che in questo caso è la somma fondamentalmente delle 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 singole annualità meno cinque volte quest'anno meno sei volte scusate la quantità riportata dei VR e questo come vedere dal luogo a dei crediti di carbonio degli assorbimenti che quindi verranno trasformati i crediti se il crediti verrà confermato nel 2022 abbastanza notevole soprattutto per la parte di crop plan management meno di fatto per la parte di crescent management ma comunque considerevoli che sono come possibile vedere comparabili con la parte di forest management forest management che anche qui non equivale a tutti gli assorbimenti delle foreste ma il più grande dei assorbimenti delle foreste una volta che vi è applicata la regola di contabilizzazione che in questo caso è il di riferimento forestale e con questo dovrei aver concluo quindi vi ringrazio con lo schermo e ovviamente visto che youtube non è partito se avete domande voi è partito youtube è partito con un po' di problemi ma è partito ok perfetto se ci sono domande se non ci sono domande infatti ho visto con piacere che è stata citata la carta dei soli d'Italia del 2013 non mi è chiaro come sia stato attribuito un valore di carbonio organico a quei suoli classificati se è possibile un attimo descrivere la procedura insomma altrimenti si lascia dopo alle discussioni questo aspetto grazie grazie su questo specifico argomento penso che lascerò volentieri la parola al gruppo ISMEA che si è occupato della definizione dei dei socro al prezzo sulla base della metodologia che ho descritto se per loro va bene ok va bene io una domanda più banale vado per dire che avrò io delle slide che cercheranno di spiegare bene questa parte io ho più banale la mia domanda così puntuale quando avete mostrato appunto le fonti dati avete parlato di Corinne 2006 io sono un po' esterno ai vostri a tutto questo argomento quindi alcune cose possono sfuggire anche dal punto di vista dei tempi delle rivistiche degli anni di riferimento perché a voi avete appena fatto il Corinne 2018 sì su questo rispondo brevemente il Corinne 2018 ancora non è disponibile sì è in fase di finalizzazione il 2006 è stato utilizzato semplicemente per definire i suoli che sono soggetti a uso del suolo cropland e graph per definire semplicemente i soft ref ma anche su questo penso che una spiegazione potrà essere data dal gruppo SMA ovviamente questa è una procedura che è stata messa su nel momento in cui non è sistemano altre banche dati al di fuori di quelle di cui abbiamo parlato con il nuovo layer tecnologica cover ma ancora di più con il nuovo progetto con il cover plus che dovrebbe in qualche modo tenere conto dei requirements per i rapporti di un UCF ovviamente questo dovrebbe essere la metodologia dovrà in qualche modo essere modificata per tenere conto di questi nuovi layer marina c'è una domanda dalla chat di youtube e claudia cagnarini chiede ho capito che viene applicato un modello che credo sia sviluppato in nuova zelanda partecipa al gruppo di sviluppo ha avuto modo di verificare il modello non so a quale modello faccia riferimento il modello della nuova zelanda sinceramente perché l'applicazione della metodologia seguita è la metodologia PCC per la cima appunto delle varie categorie e di conseguenza poi delle attività del prodotto di chioto e quello che è stato fatto a livello nazionale è la definizione dei vari parametri che intervengono nel processo di stima l'unica cosa che ovviamente è utilizzata della metodologia internazionale sono le zone climatiche di PCC ma ovviamente sono state considerate le zone climatiche di PCC afferenti a Italia quindi se magari Claudio può articolare meglio la domanda magari vediamo la risposta successivamente volevo chiarire che appunto l'obiettivo della giornata è proprio quello di scambiarci le esperienze le conoscenze in questo settore quindi qualunque diciamo questione rimanga aperta dubbio necessità di confronto condivideremo le slide sul sito di Ispra e poi metteremo anche tutti i contatti invieremo i contatti delle persone intervenute oggi in modo che possiamo poi riscriverci o scambiarci ulteriormente cose diciamo se necessario quindi benvengano tutti i dubbi e se ne riusciamo a diciamo scioglierli tutti in questo modo che comunque con tutti i problemi tecnici dopo ci sarà sicuramente anche occasione se non ci sono ulteriori domande ti dai la parola a a cinzia chiede a voi cammino saccarini per la loro presentazione va bene allora buongiorno comincio come sentite la condivisione della presentazione io sono Camillo Zaccarini Bonelli sono responsabile in mea del team che segue la stima tutta l'attività diciamo di supporto tecnico all'interno dell'ambiente a Ispra per proprio l'attività di stima e variazione degli stock di carbonio per cropland management e grassi management e sono appunto insieme al team me abbiamo anche i colleghi del CEMICC che poi collaboreranno anche a questa presentazione brevemente il sommario della stessa io userò un po' il contesto in cui si è inserito questo lavoro che ormai ha una profondità storica decennale e che comunque sta portando i suoi frutti proprio in questa fase attraverso un miglioramento dei dati che in parte già sono anticipati nella precedente presentazione soprattutto sul tema delle pratiche agronomiche delle SOC nella stima delle superfici e poi con le ghietti del CEMICC daranno una maggiore indicazione sull'affinamento metodologico della stima in particolare dell'impatto in termini di flussi di carbonio ricalcolati con questo nuovo modello per il CEMICCM poi concluderemo con un breve collegamento di tutta questa tematica agli argomenti di odisi come aveva inizialmente introdotto appunto io dal direttore di Ispra allora il contesto normativo è importante per capire la contestualizzazione di questo lavoro è un lavoro che prende le mosse nelle sue prodromi in un'analisi che era stato in un studio che facevamo nell'ambito della rete rurale del ministero delle politiche agricole rete rurale nazionale della passata programmazione pubblicando un libro bianco che cercava di andare a evidenziare i collegamenti tra le politiche agricole e tutte le possibilità di intervento sulla mitigazione e l'allattamento che mi avevano chiamato è un tema molto ampio questo che però poi si è concretizzato nella pratica anche diciamo normativo amministrativa attraverso un atto un decreto interministeriale del 2013 che andava a integrare il decreto del 2008 in materia di registro di serbatoio di carbonio forestali prima e qui con l'introduzione anche della sezione agricola il cui coordinamento tecnico è stato affidato da questo decreto di Smea su questo scorto abbiamo poi avviato una serie di studi sia su fronte dell'inistria politica agricola che con i colleghi dell'ambiente istra l'altro ministro politica agricola abbiamo pubblicato nel 2014 un studio sul potenziale di mitigazione delle pratiche culturali delle lavorazioni che è stato un passo ulteriore rispetto al libro bianco proprio nel cercare di identificare tutti i coefficienti in termini land use management e input delle principali pratiche agronomiche e anche cercare di comprendere quali potessero essere le pratiche agronomiche maggiormente degne di essere in qualche modo monitorate in questo sistema e però tutto questo poi si è concretizzato ed è entrato anche dentro a un tavolo più articolato con la commissione ministero dell'ambiente insieme a di cui oggi presentiamo i risultati un studio che partì con un meeting aperto anche alle regioni del CERA al Jersey nell'aprile del 2015 per poi proseguire in un gruppo più distretto che considera l'ambiente ispra che ha dato i suoi effetti concreti poi nella scelta importante innanzitutto nella elezione del CROPLAN Management e Gredi Management come diciamo tematica ambito di diciamo obbligatorio di comunicazione ai sensi appunto del protocollo di Kyoto come si è illustrato da la dottoressa Bicciullo attraverso tutte le regole di anche contabilizzazione e reporting in sede appunto al protocollo di Kyoto e poi le ulteriori sue esplicitazioni si sono stinsecate nella pubblicazione del NIR che appunto già dal 2018 incorporava dei miglioramenti su questo versante e nell'ultimo diciamo pubblicazione NIR di pochi giorni fa è stato anche aveva avuto l'incorporazione diciamo di questa metodologia in fase ancora diciamo come si diceva prima non definitiva ma all'interno diciamo di quello che sono state i dati trasmessi diciamo alle autorità internazionali competenti a questo sintetico diciamo riprendendo un po' le tabelle che erano state usate nella precedente presentazione ci troviamo di fronte a un passaggio di questo tipo cioè rispetto a un inventario nazionale di casserra secondo il common reporting formate del 2019 fermo diciamo che sono scarto biennale quindi riferito fino alla età del 2017 il sistema diciamo della gestione agricola del crop management portava come vedete attraverso l'azzurrino a un saldo netto favorevole in termini di scusami mi senti solo per segnarti che la presentazione è ferma sulla prima slide quindi dovresti mettere la modalità presentazione e farla scorrere ok però mettiamo la presentazione perché si vede più grande anche per su youtube l'ho messa ma spero che si veda guarda si vede così è come non è la presentazione o la diamo come tale forse hai due schermi comunque si leggo in ora non si legge più credo che zaccarini sia uscito dalla vettura roma che c'è un'icona che un po' si fraintende tra rendere grande lo schermo e uscire dalla vettura roma ok vogliamo riprendere magari proseguiamo con cinza e poi zaccarini riprende appena rientra così va bene provo a condividere la mia la vedete si vede la presentazione si si anche per te se la puoi mettere in modo di rappresentazione vediamo più di tanto sennò non va ecco ecco giusto perfetto va bene allora io adesso riparto un po' diciamo dal calcolo del carbone organico nel suolo come accennava anche Marina prima la IPCC stessa nelle linee guida 2006 ci fornisce un'equazione per poter effettuare questo calcolo e questa equazione prevede il calcolo del SOC al tempo zero e la differenza del SOC al tempo zero meno t diviso d t e d come già è stato detto appunto anche nella precedente presentazione rappresenta un valore in termini di tempo che viene definito dalla stessa IPCC pari a vent'anni questo perché appunto le dinamiche all'interno del suolo a seguito di un cambio di uso di gestione impiegano circa vent'anni quindi viene assunto questo valore come valore di default per ritornare all'equilibrio quindi diciamo noi siamo partiti appunto da questa equazione che prevede anche appunto il calcolo del SOC stesso con la formula che prevede appunto la moltiplicazione del SOC REF per i tre fattori FLU FMG ed FI per A che è la superficie quindi un fattore molto importante sono gli attivi di data quindi la superficie in questo caso specifico si tratta appunto delle aree che sono sottoposte a specifiche transizioni all'interno del comparto PROFL e del Grating Land Management poi abbiamo gli emission factor che appunto è il soil organic carbon che abbiamo detto può essere calcolato con questo prodotto tra il SOC REF e i fattori F e insieme appunto questa moltiplicazione ci dà la stima del bilancio dei flussi di carbonio partiamo dunque dagli attivi di data all'interno di questo lavoro che abbiamo svolto insieme appunto ad Ismea e abbiamo fatto una gran parte di lavoro sulle superfici cioè sulla ricostruzione di quella che è la serie storica delle superfici con un dettaglio su base regionale questa è un po' diciamo una delle rovità a cui accennava anche il dottor Zaccarini nella sua presentazione e ce ne abbiamo quindi ricostruito la serie storica su base regionale di tutte le categorie di uso di copertura e di gestione del suolo facendo riferimento diciamo alla base dati nazionale che Ismaa utilizza normalmente per vendire e all'interno di questa serie storica sono state poi ricostruite tutte le superfici sotto vostra transizione questa slide diciamo è un po' per mostrare un po' la complessità del lavoro che c'è dietro vedete sembra diciamo quasi impossibile andare a ricostruire tutti i flussi ma si tratta praticamente di le diverse categorie di uso del suolo che sono presenti in tutto il territorio nazionale vedete questa è settlement forest overwooded land grazing management eccetera quindi insomma si tratta di andare ad individuare tutte le singole categorie di uso del suolo e come queste interagiscono tra di loro nel nostro a parte specifica diciamo su cropland e grazing management in realtà ci siamo andati ad occupare di questa parte un po' più in questa parte azzurra diciamo e vedete questa comunque diciamo è molto complessa nel senso che ha una serie di scambi di transizioni all'interno delle stesse categorie e chiaramente anche esternamente verso tutte le altre categorie questo perché il totale nazionale e tutti i flussi le transizioni di superficie devono essere chiaramente coerenti a livello nazionale ma non solo sì volevo chiederti se è possibile nascondere la par della condivisione dello schema ecco 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 meglio adesso ok quindi insomma dicevamo appunto all'interno di questi categorie abbiamo grazing management e poi cropland management che a sua volta è suddiviso in annual cropland e perennial cropland questa figura ci fa capire la complessità insomma delle transizioni delle diverse superfici che abbiamo dovuto considerare ma dicevamo non solo perché appunto all'interno di quest'area in azzurro quindi di cropland e grassa and management abbiamo siamo dovuti andare anche a controllare tutte le transizioni tra le diverse forme di gestione quindi all'interno delle grazing and management del fascolo siamo andati a guardare insomma le superfici sottoposte alla gestione biologica quella ordinaria e come queste tra di loro si interfacciano e quali sono le transizioni tra queste due sottopategorie la stessa cosa tra le arbore la categoria abbiamo quindi valutato la categoria gestione biologico ordinario e integrato e come queste interagiscono tra loro e la stessa cosa anche per i seminativi abbiamo valutato le categorie di gestione biologica conservativa ordinaria set aside e di integrata e come queste appunto interagiscono a loro volta tra di loro quindi insomma ecco questo per far capire un po' la complessità della ricostruzione delle serie storiche su base poi regionale di ogni categoria di uso copertura e gestione del suolo per Flockland e Gratis Ammanagement per quanto riguarda invece il suolo il fattore di emissione del suolo abbiamo detto che l'ATCC ci dice nella formula che possiamo calcolare il carbonio il SOC come prodotto tra SOCREF e tre fattori FLU FMG che tengono conto quindi dell'uso del suolo del management e dell'input di carbonio in realtà l'ATCC stessa ci dice che questo calcolo si può anche sostituire andando ad utilizzare dei valori misurati o rilevati effettivamente nel paese in cui deve essere effettuato il reporting e l'accounting con dei valori appunto derivati ad esempio dalla bibliografia tutti infatti noi abbiamo provato ad effettuare questa ricerca bibliografica abbiamo analizzato tutti i dati che sono stati pubblicati all'interno del progetto Life Made Ines che aveva proprio questa finalità cioè quella di andare a ricostruire una banca dati di valori di SOC a livello comiterraneo e nonostante i valori siano anche il numero di dati riportati sia effettivamente elevato e quindi utile in realtà questi dati si sono limitati per riuscire in qualche modo a caratterizzare come diciamo appunto le diverse tipologie di gestione ed inoltre ci sono pochi dati a volte per alcune categorie per il management ad esempio quindi solo 21 o 5 studi per alcune tipologie di gestione quindi sono un po' limitati per riuscire a caratterizzarli ed inoltre a volte succede che questi dati facciano riferimento a suoi che si trovano in condizioni ambientali molto diverse tra di loro per cui nel momento in cui abbiamo la necessità di doverli confrontare per valutare una ipotetica transizione da una gestione del solo ad un altro in realtà questi dati non sono abbastanza robusti per poterci permettere di questo confronto quindi siamo tornati a valutare nuovamente appunto la formula dell'EPCC che ci dice appunto di moltiplicare il SOCREF per i tre fattori S dunque il SOCREF per definizione dell'EPCC stessa è quel valore di ideale diciamo di carbonio organico nel suolo in condizioni appunto ideali senza diciamo fattori di gestione antropica e l'EPCC stessa la fornisce in alcune tabelle per le diverse tipologie di clima e di suolo che possono essere presenti a livello globale allora noi comunque abbiamo cercato con l'obiettivo di migliorare appunto questo calcolo di andare in qualche modo a dettagliare questi SOCREF per il crop land e per il grazing land siamo andati a dettagliarli a livello appunto nazionale e quindi abbiamo intersecato le informazioni derivate dal clima dalla carta quindi delle PCC delle zone climatiche dalla carta appunto dei suoli dalla mappa dei suoli italiani e il clean man cover è stato utilizzato per caratterizzare la superficie di crop land e grassland a livello nazionale ed è stato poi quindi tutto ripartito su base regionali quindi utilizzando i confini amministrativi regionali quindi anche tornando un po' alla domanda che era stata fatta prima dal CREA praticamente la carta dei suoli italiana è stata utilizzata per poter dare diciamo identificare le diverse zone le diverse tipologie di suolo in Italia che intersecate poi con le diverse zone climatiche e l'uso del suolo di crop land o grassland e su base regionale ci ha permesso di andare a dettagliare i soft ref delle PCC dandoci dei valori vedete in questa tabella diversificati per ogni regione quindi per crop land management e gresila management in funzione anche appunto delle condizioni climatiche moist and dry i fattori F poi anche questi sono forniti dalle PCC e noi diciamo abbiamo fatto un po' lo sforzo di andare a dettagliarli per le condizioni climatiche differenti e moist and dry per le diverse tipologie di gestione quindi abbiamo selezionato da tutta la tabella che ci fornisce le PCC quelli che più potrebbero appunto essere ricondotti alle diverse tipologie di gestione come per esempio seminativo ordinario biologico integrato la stessa cosa per l'ervore e anche per il passolo gestito e per il passolo migliorato questo quindi ci ha permesso andando quindi a moltiplicare i stock rest dettagliati su base regionale per i fattori dettagliati in funzione delle pratiche di gestione ci ha permesso quindi di avere dei valori di soil organi carbon per regione e per gestione quindi che sia per le culture perenni in base alla tipologia di gestione ordinario biologico integrato eccetera e la stessa cosa anche per le culture annuali il calcolo poi è stato accompagnato anche da una stima delle incertezze e abbiamo anche effettuato all'interno di questa collaborazione di questo progetto con Ismea anche un ammiglioramento del calcolo dei flussi di carbonio collegati alla biomassa anche se non è il focus della giornata di oggi però vado velocemente insomma giusto per dire che abbiamo fatto anche questa parte abbiamo quindi costruito anche in questo caso la serie storica delle superfici per le diverse culture arbore su base nazionale poi il dato è stato informato su base nazionale calcolando l'incidenza delle diverse culture si sono utilizzate le classi di età differenti le principali culture oliveti vigneti azitutetili in questo caso invece abbiamo potuto utilizzare i dati derivati dal progetto Life Made Inet abbiamo quindi interpolato i valori della biomassa per gli intervalli noti le diverse classi di età in generale quindi questo lavoro condotto in collaborazione tra CMCC nooo risulta occupato il canale di Life Science nel 2017 ci serve quindi chiaramente questa finestra temporale perché come spiegava anche Marina dobbiamo fare riferimento all'anno base per il calcolo delle Ness Ness del 1990 ma siccome le dinamiche del carbonio nel suolo durano almeno vent'anni dobbiamo fare riferimento al ventennio precedente quindi ecco che dobbiamo partire dal 1971 ed è stato poi concordato effettuato la concordanza del dato sulla base nazionale con la fonte dati di Isla e sono stati quindi utilizzati dei fattori di emissioni aggiornati per il suolo e anche per la biomassa quindi in sostanza noi abbiamo siamo riusciti ad aumentare il dettaglio spaziale arrivando quindi a livello regionale con un aggiornamento costante dei fattori di uso e gestione di input abbiamo aumentato le forme di gestione abbiamo quindi perfezionato il sistema di monitoraggio delle superfici miglioramento delle stime anche legate al comparto della biomassa il calcolo abbiamo detto è stato adattato alla struttura del NIR e soprattutto siamo riusciti quindi a dare un incremento dei crediti di carbonio abbiamo aumentato quindi la quota di assorbimenti che il paese quindi può contabilizzare questo lo faceva vedere anche Marina nella sua presentazione quindi in sostanza abbiamo aumentato la complessità del calcolo con ammessa anche provocazione dell'incertezza in questo slide abbiamo quindi è possibile vedere i risultati dunque se riuscite a vedere questa linea qui marrone marroncina qui questo era quindi il dato che è stato riportato nell'ultimo NIR in cui appunto veniva contabilizzata soltanto i flussi derivanti dalla biomassa del crop plan management dell'erbore del crop plan management che è quindi questa parte marrone che vedete sotto lo zero quindi le emissioni collegate alla gestione della biomassa del crop plan management invece con questo lavoro che abbiamo eseguito di aumento della complessità e dei dati appunto che sono stati considerati siamo riusciti ad inserire all'interno di questa parte che vedete sopra lo zero che va quindi in favore degli assorbimenti che è quella relativa al suolo del crop plan management e al suolo del rating plan management e quindi siamo riusciti a riportare il calcolo verso questa linea nera a favore quindi di una maggiore quantità di assorbimenti e quindi ecco che da questo calcolo che è stato riportato nel precedente nero possiamo passare a questo calcolo nero questa linea nera che è un calcolo del net net che come diceva Marina è chiaramente ancora parziale perché è riferito al periodo 2013 2018 confrontato con il 90 ma soltanto nel 2022 avremo chiaramente il calcolo finale per la complessa valutazione parziale siamo passati quindi ad un assorbimento netto di oltre 37.000 kilotonnellate di ammiglia carbonica qui sono riportati i grafici per le diverse tipologie per GM e per CM vedete che appunto questo miglioramento del calcolo ci porta sicuramente in una parte relativa agli assorbimenti che una curva rimane appunto nella parte agli assorbimenti e nel CM e anche qui passiamo sicuramente nella parte degli assorbimenti con un andamento anche abbastanza crescente ecco questa parte la provo a ripassarla ecco se la lasci te proiettata per favore mi senti? sì sì puoi spiegare ecco la segui ecco perché prima avevo perso il collegamento qui richiudiamo il focus diciamo metodologico e tecnico torniamo a un discorso di policy per dare il senso di come tutta la partita che stiamo svolgendo col tavolo di Ispare dell'Ambiente trova un perfetto diciamo collegamento anche con la costruzione della nuova politica agricola vuoi vedere qui un quadro dello schema logico del flusso logico di costituzione del sistema di monitoraggio degli obiettivi della nuova PAC che riporta proprio fra gli indicatori di impatto un subindicatore riferito proprio alle emissioni e assorbimenti diciamo dei gas e materanti all'interno dell'ULCF quindi la percentuale di modificazione di questi rispetto al periodo di riferimento e inizia a stare al merito cioè questa slide serve a dire che tutto il tavolo che oggi ha approfitto cose tematiche sul versante ambientale avrà poi una sua fondamentale riproposizione che come sapete sta cambiando la sua pelle passando con maggiore attenzione all'effettivo raggiungimento dei risultati la nuova PAC darà soldi a chi raggiunge i risultati e quindi su questo versante gli indicatori sviluppati con i colleghi di Ispra e del CMCC diventano basilari se mi cambi l'ultima slide cortesemente ecco tutto questo sapete è stato ripreso più recente anche dalla grande strategia europea del Green Deal sapete che all'interno di questa c'è anche il tema delle neutralità climatiche entro il 2050 dell'Unione Europea attraverso lo step intermedio del 2030 senza trarre nel merito qui stiamo tornando ai massimi sistemi di politica però anche all'interno del documento se lo cercate è citato precisamente l'importanza dell'apporto della sostanza organica nei suoi agricoli se voi lo vedete lo dice la Commissione Europea dentro il documento From Farm to Fort che è proprio la sezione agricola del New Green Deal tutto questo per dire che non sono più due anime separate abbiamo cercato con questo progetto di riconciliare questi due versanti trovando con difficoltà ma penso anche con un certo successo una chiave di condivisione dei termini ma anche delle metodologie e con l'ottesione di ringrazio tutto il team di Smea e di CEMIC che ci ha lavorato e soprattutto i colleghi di Ispra in primis Marina ma tutto il suo team che ci hanno consentito di arrivare a portare il risultato che penso dopo dieci anni da nuovi crediti al settore delle cortilazioni agricole cosa che storicamente non era nota ma le nuove pratiche agronomiche più sostenibili ce lo consentono e sono un punto di forza grazie grazie Cinzia grazie Camillo per la presentazione volevo soltanto segnalare che abbiamo tre domande che sono arrivate sulla chat quindi se voi poteste rispondere allora la prima è di Saverio Maruccio che dice i dati di SOC per l'Italia di Medilet sono rifiuti a un anno o a un periodo in particolare offizio che sono stati usati 766 profili fatti da 2008 e 2018 seconda domanda di Claudia Cagnarini anch'io ho una domanda simile visto che l'Italia è molto carente di dati di SOC a parte la campagna europea avviata dal GRC i dati di suono sono puntuali o esistono serie temporali e infine l'ultima nota di Edoardo Costantini dice la carta del carbon stock che l'Italia ha fatto per la FAM nel 2018 nell'ambito della Global Soil Partnership e qui immagino che Roberta Farina così come altri colleghi possano rispondere probabilmente sì allora per doversi levare la condivisione dello schermo immagino ecco ok allora per quanto riguarda ovviamente l'utilizzo di map e dati più aggiornati c'era anche la domanda precedente per esempio sul Corrile e ancora è chiaro che la metodologia è sempre in evoluzione in itinere quindi giustamente appena abbiamo dei dati consolidati poi recenti possiamo chiaramente aggiornare i dati di conseguenza mentre per quanto riguarda i dati in particolare di Medinet se è disponibile chiederei a Guido Pellis al dottor Guido Pellis di esatto perché lui ha lavorato proprio specificatamente su questa parte di Medinet quindi se puoi rispondere tu alle domande sul numero di profili e gli anni di riferimento dei SOC di Medinet Sì grazie sono riferibili ad un arco di tempo che va dal 1975 in poi e non sono quindi riferibili ad un anno in particolare comunque per quanto riguarda questo tema relativo al progetto Life Medinet so che c'è una presentazione più avanti esposta dal dottor Kitty nella quale penso che vado a presentare anche qualcosa sull'argomento per quanto riguarda invece il lavoro fatto dalla FAO nel 2018 è sicuramente un buon punto di partenza il problema principale è che per quanto riguarda la produzione dei risultati per l'inventare un attore delle emissioni abbiamo bisogno di tenere in considerazione una transizione tra diverse forme di uso e gestione del suolo quindi avere una fotografia del 2018 quella che è la situazione attuale in quell'anno della distribuzione dei tipi di suoli dei tipi di colture delle diverse forme di uso e gestione non ci permette di dare un'interpretazione della transizione agli effetti che una transizione tra le diverse forme di uso e colture in tema delle diverse tipologie pedologiche danno poi il finire della variazione dell'intorzio di carbole di scuola posso un secondo? prego ecco relativamente all'uso di dati storici in Italia in Europa nel mondo c'è una storia dei profili che parte da 50 anni fa e arriva da Osi e una delle tematiche di ricerca che stiamo cercando di portare avanti è proprio l'uso di dati legacy esistenti ma non è sempre nello stesso punto per cercare e ci sarà una parte dell'intervento poi nostro dell'Università di Milano e dell'ERCF proprio relativamente al fatto di cercare di utilizzare questi dati per conto della loro stratificazione temporale grazie se posso aggiungere chiaramente è sempre molto importante avere una stratificazione temporale per ricostruire tutta la serie storica abbiamo visto appunto molto importante ma è sempre molto importante anche come diceva anche il dottor Pellis avere una differenziazione dei dati per tipologia culturale quindi uso del suolo ma anche di gestione quindi è importante per poter riuscire a dettagliare il calcolo come abbiamo visto in questo caso avere dei dati che faccia riferimento non solo per esempio al vigneto ma al vigneto gestito in maniera biologica o in maniera ordinaria o in maniera integrata e così via per tutte le varie culture quindi sarebbe molto utile riuscire ad avere questo livello di dettaglio del suolo per tipologia anche di gestione e aggiungo un'ultima cosa che è prego no no prego prego si dicevo che assolutamente è importante ai fini dell'inventario avere un'informazione temporale per specificare quindi non abbiamo bisogno cioè non è particolarmente utile avere un dato generale statistico ma abbiamo bisogno di dare una serie storica e di come avvengono le variazioni all'interno dello strato di carbone nel suolo lungo una transizione ed è questo il problema più difficile da risolvere in questo momento segue la nostra presentazione con Lorenzo per cui vedrete lì i nostri tentativi di risoluzione di questo problema di associare la gestione a particolari usi del suolo e suoli quindi andiamo pure avanti e abbiamo provato di trovare un metodo insomma per e in questa sede facciamo la proposta ok a questo punto quindi se non ci sono ulteriori interventi lasciare la parola appunto a Giovanni Lappate e Lorenzo Davino per la presentazione sì quando volete eccomi io premetto che vivo in campagna che questo è sempre un grande vantaggio però chiaramente potrei ho avuto qualche problema di connessione oggi spero che questo non sia nel caso Giovanni può inserirsi vedete e mi sentite sì ok grazie perfetto allora questo lavoro si basa su una valutazione che abbiamo fatto di abbiamo già visto questi collegamenti con il metodo del TR1 del PCC quindi siamo in questo ambito e in particolare chiaramente questo per i datori che è penso molto noto è il PCC 2013 dove mette in relazione il carbon pool del suolo che è tre volte quello in atmosfera e quindi chiaramente questo bilancio fa sì che ragionare in termini carbon socks anche qui ho riportato giusto per chiarezza la formula vera giusto per specificare che stiamo parlando delle top soil cioè dei 30 cm di suolo superficiale e quindi va considerato non solo top ma anche la densità apparente lo scherzo allora c'è da sottolineare che l'anno scorso nel 2019 il il l'EPCC ha fatto proprio su questa base un refining dei coefficienti previsti nel 2006 e questo come vedremo ha cambiato molto le cose quello che noi ci auspichiamo in questo lavoro è stato quello di ottenere delle mappe a livello nazionale che utilizzano il Corille e Cover per valutare la variazione del cambio d'uso del suolo dal 2009 al 2018 in questo quindi in ambito di tier 1 abbiamo utilizzato quelle che sono queste triplette di cui abbiamo sentito cioè sostanzialmente regione climatica tipo di suolo e land use tramite il Corin che cambia negli anni gli altri due e questa è la prima grossa semplificazione chiaramente invece vengono considerate costanti in questo vent'erno cioè la regione climatica e anche il tipo di suolo quello più più correttamente lo lo sviluppo è quello di ragionare in ambito di tier 2 cioè fare eventualmente una riparamentizzazione di quelle che sono le assunzioni per validare il 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 metodo e per capire se effettivamente questo sistema funziona abbiamo una banca dati che poi presenterà Giovanni dove ci sono caratterizzati oltre 45 mila siti e profili in cui sono inseriti anche Luca ma di questo ne parlerà poi Giovanni e qui vi porto subito il primo punto allora queste mappe sono state fatte con una griglia a un chilometro e qua si vede chiaramente che la mappa la certificazione a livello globale delle regioni climatiche del PCC mostra che praticamente abbiamo la stessa regione climatica in Sicilia impie una parana ovviamente sono delle semplificazioni però questo anche ci consente di non avere un'eccessiva creazione di nuove triplette di nuovi casi questi sono i PCC applicati all'Italia dove si vede chiaramente che c'è una netta protagonanza dell'Italia che rappresentano moltissimi suoi agricoli e quindi vedete che in realtà c'è una netta predominanza in questo senso abbiamo classificato quindi ovviamente non sono solo questi cioè questi sono i gruppi principali e abbiamo quindi i 5 class name in questo caso e veniamo alla terza fase la terza fase è quella più delicata quella del level cover in cui noi abbiamo come semplificazione come semplificazione come necessità associato diversi classi con l'indale cover come vengono riportati in cui c'è stato un grosso di accorpamenti tra diverse classi di level cover per avere un level smooth questo ha determinato su base GIS come dicevo un confronto tra il 1990 il 2006 e il 2018 in cui si vede che il maggior incremento come l'enter use è stato nella fase auto dove c'è appunto il settlement come si diceva appunto ma anche le aree semi naturali e i vivimenti bilanciato dalla riduzione che è soprattutto nelle aree non agricole non irrigate arbo in questo senso tenendo presente che le aree agricole sono quelle riportate con asterisco sono relativamente cioè non è inserito il grassland per esempio in questa classificazione e anche questi sono chiaramente dei punti assolutamente in fase di discussione perché poi ovviamente posso spiegare meglio se volete approfondire queste assunzioni il riferimento è quello della nomenclatura del CLC che è molto ben definita oggettivamente però chiaramente ci sono alcune classi che sono a metà tra l'agricoltura e la naturalità diciamo in particolare le semi naturali oltretutto ci sono anche delle difficoltà che abbiamo rilevato su per esempio la barna agra le aree incendiate sono aumentate moltissimo nel 2018 rispetto al 90 e 2006 ovviamente perché ci sono anche i metodi di valutazione del colinio del core sono cambiati negli anni e ci sono anche delle modifiche sotto questo aspetto è importante che secondo me questi numeri in questo caso per l'agricoltura è ridotto di 709 chilometri quadrati vengano discussi e confrontati con quelli che abbiamo sentito riportare in ambito di lavoro magari spero anche a tutta turma insomma in quest'ottica perché come abbiamo cercato di superare l'attribuzione abbiamo visto che ci sono dei coefficienti una volta associata a questa privetta cioè clima suolo e land use occorre associare dei fattori di correzione che ci sono dati abbiamo visto dal management dall'organic input e dal tipo di land use ma quindi esiste una valutazione del soil management come valutare il soil management la nostra interpretazione è quella di assumere in queste abbiamo trovato quindi 1645 combinazioni in presenti in Italia di queste tre replette di queste praticamente abbiamo ragionato sulle classi agricole perché questo è giusto e abbiamo escluso quelle che abbiamo considerato marginali tra lì sotto dei 1500 chilometri che rappresentano 1% dell'area totale italiana perché siamo veramente dipendendo dalla scala per cui stiamo lavorando questo ha fatto sì che sono state elevate una serie di triplette che vedete qua in parte riportate sottolineo l'enorme differenza che c'è nello stesso risultato tra il usame coefficiente del 2006 e gli usame coefficienti del refining 2019 di giugno scorso perché effettivamente poi i numeri cambiano in alcuni casi in modo molto importante l'idea quindi è quella se mi sono spiegato bene di associare a un e questo su base arbitraria fatta anche insieme a Edoardo Costantini a questo gruppo come dirò poi fanno parte anche di questo gruppo di lavoro anche Edoardo Costantini Maria Fantapie e Marco Spero e abbiamo associato praticamente delle arbitrariamente un management e degli input organici in questo modo insomma si vede che abbiamo l'aumento dal 90 al 2018 è stato soprattutto nelle aree seminaturali di 1415 chilometri quadrati su suoli HCL ovviamente e con clima warm tempered drive che è come abbiamo visto il principale mentre il decremento maggiore si è sviluppato sulle aree non irrigate su HCL su warm tempered drive e anche su warm tempered moist come vedete dai numeri che vi ho riportato a questo punto io passo la parola a Giovanni che vi spiega quella che è la prospettiva di sviluppo di questo lavoro Giovanni mi senti? sì sento e sto cercando di riprendere la voce ah ok perfetto vai poi d'accordo quindi questo è stato il lavoro a livello di tiro 1 condotto fino ad ora e lasciando in fieri insomma un'eventuale prosecuzione sul livello tier 2 al tier 2 appunto è previsto di utilizzare le banche dati nazionali e locali insomma nazionali noi gestendo questa banca dati con dati italiani dagli anni 50 ad oggi abbiamo già avuto esperienza di lavorare nel settore nel senso che nel 2007 abbiamo pubblicato questo software con ammesso cd rome banca banca dati quindi vuota da permettere all'installazione agli utenti in locale questo è stato adottato come software almeno come base da alcuni servizi regionali in Italia e ci ha permesso a noi di quindi Lorenzo puoi andare avanti? Le slide Lorenzo mi senti? Ok di raccogliere una serie di dati a livello nazionale appunto il dataset chiaramente essendo dati legacy non è uniforme nel tempo principalmente raccoglie dati degli anni 90 e nell'ultimo decennio il numero di dati si è molto ridotto questo però non ci non ci non ha effetti sul numero e sulla qualità dei risultati essendo il scarso numero di dati a livello nazionale dell'ultimo decennio è bilanciato dall'alta qualità dei dati nel senso che sono frutto di accordo con le regioni e quindi sono dati rappresentativi di situazioni dei suori locali quindi anche se sono pochi sono pochi ma buoni insomma senz'altro c'è da da tener conto insomma che in una situazione di monitoraggio in effetti in Italia mancano campagne di monitoraggio continue o ricorrenti l'ultima è l'esperienza del carbonio forestale come soli ed effettivamente insomma il numero di siti indagati sono abbastanza rappresentativi di varie situazioni e quella continua Lorenzo next si ci mette solo la slide successiva ecco e ci ha permesso di fare questo studio che abbiamo pubblicato nel 2010 a nome fantapie con Edoardo e Maria lo studio era volto proprio a indagare l'evoluzione in tre decenni quindi nel 90 nel 2000 fino al 2010 ed ha messo in luce una serie di transizioni la questione su cui in questo caso era solo considerato l'aspetto del carbonio e poi è stato anche messo in relazione a cambiamenti invece di gestione e clima il nostro studio si era focalizzato fino ai 50 centimetri anziché prendere in considerazione solo i 30 centimetri quindi al momento non è confrontabile con la spazializzazione invece fatta con la FAO nel quale abbiamo sempre collaborato insieme a numerosi servizi regionali alla produzione di questo ulteriore sforzo che rappresenta invece i suoli e quindi lo stato successivo al 90 ovvero raccoglieva informazioni solo dal 90 al attuale al 2017 e in realtà al 2013 quindi questi due strati in questo momento non sono confrontabili tra di loro si vede se vedete il carbostock quanto cambi se si considerano quei 20 centimetri in più effettivamente anche se è cambiata leggermente la il metodo di spazializzazione abbiamo usato metodi analoghi simili ma non esattamente lo stesso perché è stato frutto di un lavoro appunto anche concordato con altri colleghi all'interno del team e utilizzando metodi statistici più evoluti quindi si vede quanto possa comunque influire l'aver considerato quei 20 centimetri di contro abbiamo usato il soil grids per confronto per vedere un po' come cosa avrebbero detto altri con altre basi dati e la differenza è drammatica nel senso che è quasi doppio la stima del carbonio nei suoi italiani uno studio più specifico lo abbiamo fatto ed è in corso di pubblicazioni proprio su questa la produzione del Global Soil Organic Carbon Map e la validazione che abbiamo fatto su siti di tenuto su un dataset tenuto di controllo insomma e di validazione questo l'abbiamo fatto sia sui nostri dati che su i dati sulla spazializzazione del soil grids i risultati ci hanno confortato insomma la stima risulta migliore insomma rispetto alla nostra produzione comunque andando a concludere sono state qui vedete delle valutazioni su classi di uso del carbonio organico sia desunte dalla carta della FAO sia da kiti come riferimento manca la colonna appunto di relativa al tier 1 perché perché ancora non è stato fatto una pesatura sull' estensione delle aree rappresentate insomma quindi ancora potremo poi aggiungere anche questo controllo sui dati che vi ha mostrato Lorenzo nelle conclusioni come ultima slide sua lascio la parola a Lorenzo per le conclusioni sì grazie Giovanni le conclusioni in realtà sono solo per mostrare come questo metodo chiaramente può essere uno strumento interessante per la valutazione delle emissioni da confrontare appunto con i dati che abbiamo visto in apertura del convegno e di quelli che seguiranno e utilizzando lo strumento del corinland cover che è uno strumento disponibile in questo senso chiaramente però il vero limite come già emerso anche nella presentazione precedente è quello di associare a questi profili un management che abbia anche una coerenza con il passo temporale dell'EPCC cioè 20 anni inoltre va tenuto presente che questo refining potrebbe cambiare sostanzialmente i numeri e i risultati che abbiamo fin qui ottenuto e nel 2022 non si potranno credo non tenere considerazione di questi fattori di correzione che sono stati pesantemente modificati l'aspetto che credo possa essere interessante è quello di poter valutare questi valori che vengono da queste stime arbitrarie cioè assumere che su quel determinato clima su quel determinato tipo di suolo in vigneto c'è quel tipo di management voi sapete si tratta solo di distinguere in realtà le classi sono molto ampie tillage redistillage o full tillage e di input anche queste sono quattro classi molto ampie però riparametrizzarlo sulla base dei risultati presenti in banca dati che è una risorsa che è a disposizione ovviamente per queste ricerche ed è in fase di valorizzazione in questo momento volevo solo sottolineare in conclusione che il gruppo è composto come ho già detto anche da Edoardo Costantini e Max Perra e Maria Fantapie e che è già stato presentato in anticipazione già dal 2017 negli Stati Uniti nel 2019 e ultimamente in un poster al congresso della SICA a Bari l'anno scorso sarà oggetto di pubblicazione e è seguito in alcuni progetti come il Digit su Visa e anche sicuramente nelle GP Soil che si sta delineando ho concluso e vi ringrazio questi sono i miei riferimenti grazie Lorenzo e grazie Giovanni allora una notizia lo streaming nel frattempo è andato insomma si è bloccato due o tre volte quindi non abbiamo domande direttamente dal gruppo che sta seguendo su Youtube voglio soltanto fare una precisazione relativamente al refinement 2019 delle IPCC guidelines visto che erano il gruppo dei lettori di IPCC forse posso dare qualche informazione non ci sono grandi allora il refinement è pubblico ed è stato pubblicato per cui è stato approvato dal bordo dell'IPCC ed è disponibile online nell'ambito del per tutto il nuovo periodo dell'accordo di Parigi al momento tutti i paesi sono obbligati a usare il 2006 probabilmente nella prossima coppia a questo punto è stata spostata al 2021 verrà discusso se inserire l'obbligo dell'uso del 2019 al momento non è un obbligo e al di là di questo le informazioni e i valori relativamente al suolo non hanno subito stravolgimenti come è possibile notare andando a fare insomma una comparazione dei due set insomma la metodologia è sempre la stessa è sempre misa per ti ovviamente ci sono delle piccole variazioni la cosa che preme sottolineare è che così come ribadito più volte durante le precedenti presentazioni quello che causa una variazione di stock di carbonio almeno seguendo le regole del PCC sono le variazioni di pratica per cui questo è quello che è più difficile in qualche modo recuperare in termini di informazioni e poi trasformare in termini di stima ed è quello che abbiamo provato a fare quest'anno per la prima per la prima volta quindi un invito a tutti quelli che appunto hanno già cominciato e hanno già elaborato lavorato molto su questi temi magari se riuscite a dare un'occhiata al NIR dove sono appunto pubblicate tutte le informazioni tutti i dati ovviamente e riuscite magari anche a farci le pulci in qualche modo a evidenziare eventuali cose non chiare o cose che secondo voi potrebbero essere scorrette e sarebbe davvero un lavoro utile sì grazie assolutamente condivido questa esortazione e anzi sono molto contento di essere di partecipare a questo incontro che credo sia molto importante proprio per discutere tra chi si è approcciato anche prima di me insomma sicuramente a questi valori e a questi aspetti volevo sottolineare che effettivamente dai nostri primi risultati applicando il refining 2019 in alcuni casi il valore di carbonio cambia del 20 30 come si vede da queste 40 anche 50% in più o in meno e questo sulle aree è abbondante è importante credo benissimo se da un punto di vista se sia obbligato a usare questo anche per noi chiaramente siamo ricerca e quindi chiaramente da questo punto di vista cerchiamo di ragionare anche in prospettiva volevo che fosse chiaro che il nostro sono perfettamente d'accordo sul discorso che l'aspetto cruciale è quello di valutare come sono cambiati il soil management di uno specifico land use intanto usando il corin land cover se ci affidiamo a lui possiamo quantomeno valutare quanto sono cambiate le aree di land use faccio un esempio di vigneto dal 90 al 2006 in modo molto preciso da un punto fino alla virgola insomma perché con il GIS chiaramente con le limitazioni che ha un'analisi del 90 confrontarla con un'analisi del 2018 anche da un punto di vista tecnico e a livello GIS chiaramente ci sono delle difficoltà del solito problema della scala della riparabilizzazione e tutti questi dettagli poi tecnici che però poi vanno a incidere sui numeri effettivamente il rapporto ovviamente l'abbiamo letto e ci piacerà confrontarci assolutamente in questa e in altre occasioni per cui ripeto ringraziamo di questo invito d'accordo grazie molte se non ci sono se posso una cosa molto puntuale breve va bene rientrando poi qui sono in questo incontro devo presentare un lavoro che parla di suoli ma essendo stato uno dei consulenti storici di Ispra per quanto riguarda il Corin e l'encover posso solamente farvi fare due notazioni principali che effettivamente il Corin ha delle diciamo criticità tecniche che non è in questa sede spiegare per confronti che non siano tra anni adiacenti però questo tecnicamente richiede un'interpretazione complessa che non è qui il caso poi una banalità invece che la legenda Corin non identifica come noi intendiamo come siamo le aree irrigate dalle aree non irrigate perché identifica solamente lì dove ci siano sistemazioni permanenti quindi paradossalmente se correttamente fatta la maggior parte della pianura padana lombarda perlomeno sarebbe non irrigua per cui bisognerà valutare vi consiglio un po' di valutare questo aspetto non so quanto influisca poi nelle votazioni successive sì grazie per quanto riguarda solo un'ulteriore informazione per quanto riguarda una risposta solo per quanto riguarda il nostro dataset abbiamo usato dati extra per individuare le aree irrigue quindi non ci siamo riferiti al Corin per assegnare la presenza di irrigazione è semplicemente questo grazie ok grazie no soltanto per dire che nell'ambito dell'inventario nazionale delle emissioni dovendo attenerci alle categorie PCC alle definizioni che sono dietro contenute dietro incluse ovviamente non utilizziamo il Corin anche perché uno dei come facevo vedere prima nella presentazione uno dei problemi principali di questo lavoro è che il reporting deve essere fatto basandosi su una classificazione di uso delle terre che deve essere coerente sia internamente sia per quanto riguarda le varie definizioni delle categorie che vengono applicate a livello nazionale quindi banalmente non si possono usare dati differenti per fare la stessa categoria e ovviamente la somma di tutto quanto andiamo a definire come diverse categorie deve fare il totale dell'Italia questo vale per un anno e ancora di più vale nel momento in cui andiamo a fare le variazioni di uso del solo è il motivo per il quale è particolarmente difficile andare a definire queste matrici di variazioni annuali e ventennali detto questo io darei la parola a Costantino Sirca che avevo visto prima in collegamento salve sì mi vedete mi sentite sì benissimo un secondo sto cercando di condividere e la presentazione si vede ancora no fatto con i miei schermo certo ditemi se appena riuscite a vedere la presentazione no ci riprovo sembra quasi che allora vediamo un po' ci sto riprovando è ora sì se metti in modalità presentazione vediamo più grande grazie ora vedete bene schermo grande sì perfetto grazie benissimo allora inizio buongiorno a tutti io sono Costantino Sirca sono ricercatore al Dipartimento di Agrario dell'Università di Sassari e collaboro anche con il Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici cercherò di essere sintetico visto anche che insomma abbiamo un po' tardato con la fase iniziale e niente questo lavoro era stato svolto nell'ambito di un primo ormai concluso e poi ci abbiamo fatto anche una tesi di dottorato e in sintesi una stima dello stoc attuale sia italiano sia europeo del carbone organico dei suoli arborei sia forestali sia altri crop e poi abbiamo fatto anche una stima delle variazioni in condizioni di cambiamento climatico andiamo un po' avanti diciamo sulla parte di introduzione chiaramente abbiamo un pubblico di addetti ai lavori mi interessa solo porre una questione all'inizio che poi riprenderemo anche più avanti non sappiamo ancora se il potenziale di di questi suoli di queste superfici inteso anche come tasso di accumulo resterà costante in condizioni di cambiamento climatico perché ci sono alcuni segnali insomma che sono abbastanza interessanti recenti da analizzare un po' meglio la light cioè in pillole cosa abbiamo fatto noi abbiamo usato anzitutto il modello di dinamica di carbonio organico nel suolo century e century lavora a scala puntuale però abbiamo creato degli script tutto un metodo lavorando anche con gli autori del modello per consentirne l'uso in forma spazializzata per ottenere stime regionali di di carbonio organico dei suoli abbiamo fatto appunto una stima degli stock attuali e dei cambiamenti di stock di carbonio organico in condizioni di cambiamento climatico per arrivare poi in estrema sintesi a calcolare che gli scenari utilizzati climatici eccetera in queste superfici e in queste coperture di uso del suolo hanno causato una perdita di carbonio organico sì comunque abbastanza moderata il modello insomma century credo che lo conosciate tutti giusto per dire che uno dei modelli più utilizzati lavora a time step mensili più utilizzati sia perché insomma è un modello ritenuto abbastanza affidabile sia perché gli input utilizzati sono relativamente facili da reperire questo ne ha diffuso insomma molto l'utilizzo utilizzare essenzialmente tre tipi di input clima e poi le parametrizazioni ovviamente legate all'uso del suolo e un'altra di due caratteristiche molto importanti il modello è capace di considerare sistemi misti di tree grass e poi tiene conto anche degli impatti e delle insomma degli effetti delle variazioni di concentrazione di CO2 atmosferica nella produttività e quindi negli input di carbonio organico e di lettiera al al suolo come dati di input di suolo iniziali quindi per per inizializzare il modello noi abbiamo usato l'harmonizer the world soil database però c'è da dire che nonostante abbiamo utilizzato questi dati iniziali il modello poi è stato sottoposto a un lunghissimo periodo di spin up tale da da non far risentire poi al modello per le stime sia di carbonio attuale sia di carbonio in futuro i valori di carbonio iniziali messi nella fase iniziale dello spin up un'altra cosa importante che poi condiziona molto anche i dati i valori ottenuti alla fine noi abbiamo lavorato su due layers di suolo quando era disponibile ovvero quando la mappa dei suoli ci diceva che non c'era il bedrock fino a un metro abbiamo lavorato a un metro di profondità altrimenti abbiamo lavorato nei primi 30 centimetri quando la mappa ci diceva quando il database ci diceva che al di sotto di questo di questo strato c'era essenzialmente roccia madre come dati climatici abbiamo utilizzato due scenari uno moderato e uno estremo l'RCP 4.5 e l'RCP 8.5 e per ciascun scenario climatico abbiamo utilizzato tre modelli di circolazione globali in maniera un po' arbitraria abbiamo dovuto fare delle scelte abbiamo poi come time frame come intervallo come finestra temporale abbiamo utilizzato due periodi un clima attuale che abbiamo individuato nel periodo dal 1970 al 2005 facendo girare ciclicamente quindi questo periodo per stabilizzare il modello e poi siamo partiti con le proiezioni quindi con le stime per il futuro nel periodo dal 2006 al 2100 la base di uso del suolo passiamo ora distinguo un po' tra scala nazionale ed europea per la per la scala nazionale abbiamo utilizzato la mappaiuti l'inventario d'uso delle terre del territorio italiano una versione prima versione nel 2008 poi ci sono state insomma tutta una serie di improvement abbiamo lavorato in questo caso col gruppo del professor Marchetti a una scala spaziale a una risoluzione spaziale di 500 metri con queste superfici abbiamo preso la mappa originale e originaria abbiamo un po' riaccorpato eccetera essenzialmente in tre principali classi ICC forest land quindi latifoglie conifere macchia mediterranea cropland vignetti fruttetti misti e olivetti e grassland queste superfici coprono insomma oltre poco più del 50% della superficie nazionale stiamo parlando di quasi 18 milioni di ettari molto velocemente gli strati di suolo clima e land cover sono stati insomma trattati con ArchMath e alla fine abbiamo ottenuto dei file net CDF di circa 630 mila pixel per l'Italia mentre per l'area mediterranea che vedremo dopo la risoluzione è stata di un chilometro abbiamo lavorato con circa 750 mila cellette pixel passiamo a vedere un attimo chiaramente non possiamo discutere tutti i numeri ma vediamo giusto gli estremi e i dati medi in questa tabella anzitutto sulla sinistra in questa slide vi riporto la mappa di carbonio organico delle tipologie di copertura che vi ho elencato e nella tabella vi riporto sia i dati riferiti all'ettaro megagrammi di carbonio per ettaro e sia i teragrammi di carbonio totali come quantità di carbonio organico per ettaro il valore più elevato lo abbiamo ottenuto per le foreste di conifere ma comunque tutte le tipologie forestali anche la tifoglia e la macchia mediterranea mostrano dei contenuti poi di carbonio organico significativi mentre di contro i fruttetti sia specializzati come vignetti olivetti sia quelli misti hanno fatto ottenere dei contenuti di carbonio organico più contenuti più modesti come era anche logico aspettarsi trattandosi di superfici coltivate quindi dove l'impatto comunque delle lavorazioni è molto importante in questo caso abbiamo un contenuto medio che è di poco superiore ai 50 megagrammi di carbonio per ettaro questo lavoro tra l'altro l'abbiamo anche pubblicato l'anno scorso su Agricultural Forest Meteorology insomma se volete vedere i dettagli passando alla quantità totale di carbonio organico di queste superfici stoccato a scala nazionale abbiamo ottenuto una stima che va dai 1320 ai 1425 teragrammi di carbonio a scala nazionale notate una cosa c'è una grande variabilità una deviazione standard molto ampia soprattutto per alcune tipologie forestali questo non è non è solo incertezza del dato che si è ottenuto ma sta anche a denotare e anche conseguente della grande variabilità intrinseca di questo dato per queste superfici cioè abbiamo delle condizioni molto variabili in termini di contenuto di carbonio organico di conseguenza le stime soprattutto a questa diciamo a questa ampiezza a questa scala spaziale risentono ancora di insomma di questa variabilità è molto evidente ma non è un dato che abbiamo ottenuto solo noi poi come potete vedere nelle comparazioni questa è una slide che è andata a comparare i nostri dati con quelli riscontrati da altri autori diciamo che grosso modo c'è una certa rispondenza ma in alcuni casi come ad esempio nelle conifere noi abbiamo ottenuto dei valori molto più elevati può anche essere dovuto alla parametrizzazione che utilizza il modello diciamo questi sono i valori che abbiamo tenuto relativi alle proiezioni chiaramente non andiamo a fare la disamina dei dati ma ho posto giusto dei punti in generale c'è un decremento generale del contenuto di carbonio organico dei suoli però è abbastanza contenuto ed è evidente se più contenuto soprattutto con lo scenario estremo con le reciti 8.5 c'è un decremento di carbonio organico inferiore per le culture arbore rispetto alle superfici forestali dove ad esempio in un caso cioè ovvero le latifoglie con uno dei sei modelli climatici che abbiamo ottenuto c'è addirittura un leggerissimo aumento quindi in generale decremento sì ma molto contenuto questa è l'estrema sintesi della tabella che abbiamo visto in precedenza dove potete vedere diciamo soprattutto sulla destra risulta evidente il decremento seppur contenuto in questo caso i dati sono stati accorpati per tutte le superfici e distinti per modello climatico in generale abbiamo ottenuto una riduzione media di carbonio organico con le proiezioni in condizioni di cambiamento climatico fino al 2100 di inferiori all'unità di circa lo 0,75% che corrispondono a circa 13 teragrammi di carbonio a scala nazionale passiamo invece ora a vedere il dato europeo questa è la mappa dell'area che abbiamo utilizzato in questo studio vengono riportate le superfici che abbiamo esaminato corrispondono grossomodo a quelle del lavoro a scala nazionale cambiava solo la risoluzione in chilometro cambia la base dati in questo caso il lavoro aveva utilizzato la Corilla in cover del 2006 stiamo parlando di una superficie di circa 75 milioni di ettari qui nel grafico a sinistra e in basso potete vedere le superfici delle singole classi di uso del suolo con una buona rappresentanza della parte forestale e macchina interranea questa è la mappa di carbonio organico che abbiamo ottenuto per queste superfici le aree bianche non stanno a significare basso contenuto di carbonio organico ma sono le aree che evidentemente sono coperte o da culture o da altre classi di uso del suolo non contemplate in questo lavoro anche in questo caso i dati che abbiamo ottenuto come pattern sono in linea con quanto visto a scala europea questo ci si attendeva anche perché abbiamo usato lo stesso modello le stesse parametrizazioni gli stessi modelli climatici abbiamo fatto quindi una comparazione tra i nostri dati e quelli di altri autori in primis abbiamo comparato col database lucas il database lucas è un database di tipo inventariale contiene varie migliaia di dati ottenuti da tanti dati ottenuti da migliaia di punti di campionamento a terra e quello che si vede comunque a colpo d'occhio è che in generale i nostri dati di carbone organico sono inferiori come quantità di carbonio per ettaro rispetto a questo database in maniera abbastanza sistematica questo non sappiamo esattamente a cosa è dovuto io credo che sia non non lo so se è dovuto alla alla profondità dei suoli o a qualcosa in situ nel modello c'è in generale la conferma che anche in questo database i valori dei fruttetti e delle culture arbore è chiaramente nettamente inferiore come carbonio organico a quello che abbiamo invece riscontrato nelle superfici forestali anche questa tabella è un'altra tabella che poi posso lasciare se qualcuno interessa vedere i dettagli è sempre di comparazione e anche in questo caso sia noi sia gli altri autori confermano l'estrema variabilità del dato cioè il dato tra parentesi è sempre molto ampio a sottolineare ancora una volta la difficoltà di questo tipo di stime per quanto riguarda quindi il riepilogo sulle quantità di carbonio organico di queste superfici a scala europea qui vi riporto i teragrammi di di carbonio organico di queste superfici che abbiamo quantificato a scala europea ma forse è più efficace la rappresentazione grafica quindi la grafica teragrammi della parte centrale che riporta la percentuale del contributo di ciascuna classe di uso del suolo al totale e come vedete anche in questo caso la parte forestale è decisamente predominante in virtù di due fatti sia dell'estensione come si vede dal grafico sulla destra ma sia anche delle quantità delle concentrazioni più alte di carbonio organico a ettaro di queste superfici le proiezioni scusate le proiezioni anche in questo caso mostrano una riduzione in condizioni di cambiamento climatico dei contenuti di carbonio organico del suolo una riduzione comunque contenuta qui nella parte destra in rosso ho evidenziato diciamo gli estremi le superfici che mostrano le riduzioni più marcate sono le foreste miste le foreste quindi di latifoglie miste e latifoglie conifere diciamo e anche la macchia mediterranea mentre di conto ogni torbiere eccetera si nota addirittura una certa stabilità e una tendenza all'aumento andando poi a integrare questi dati aggregare questi dati abbiamo trovato una riduzione media del carbonio organico di questi suoli a scala europea leggermente superiore a quello che abbiamo osservato in Italia ma di poco siamo comunque sotto l'1% poco insomma relativamente perché parliamo di oltre 50 teragrammi di carbonio che vengono persi da queste superfici il nostro dato questo 0,86% lo abbiamo poi abbiamo cercato un po' in letteratura di comparare con quello che avevano trovato altri autori una comparazione da prendere lo dico già da subito con le pinze perché parliamo di autori che hanno lavorato su altri sistemi su superfici che non sempre coincidono con altri modelli però fatte le dovute assunzioni è comunque utile avere una comparazione e in generale gli altri autori trovano cioè hanno delle stime intese come decremento del contenuto di carbonio organico in seguito ai cambiamenti climatici hanno dei valori molto più alti rispetto ai nostri cioè questi due autori che hanno lavorato in Smith è lo stesso in realtà Smith in Europa sia su Grassland che su Cropland trova dei decrementi che vanno dall'8 al 12% mentre un lavoro che somiglia molto al nostro che io ho utilizzato anche un po' come guida fatto in Giappone su sistemi forestali da Hashimoto anche del 2012 questi autori hanno trovato una una diminuzione dello stock di carbonio organico di queste delle superfici forestali di circa il 5% passando rapidamente alle conclusioni qui voglio mettere un po' dei punti di discussione cosa cosa possiamo dire in primo luogo stima di perdita di carbonio organico delle superfici arbore sia coltivate sia forestali contenuta in condizioni di cambiamento climatico quindi importante contributo importante potenziale per la mitigazione questo diciamo un po' il primo il primo risultato è importante potenziale soprattutto per le foreste miste e questo insomma in parte si intuisce si conosce anche se andiamo a considerare tutti i discorsi legati all'ecologia alla resilienza degli stand forestali misti rispetto a quelli puri un punto altri due punti molto importanti uno dei su uno abbiamo già parlato anche nelle slide precedenti è quello dei cambiamenti di uso del suolo che sono molto molto più impattanti e molto più da tenere d'occhio rispetto anche a altri fattori un punto molto importante è che sappiamo veramente poco sulla tenuta della capacità di questi sistemi forestali di essere dei sink nei confronti del carbone atmosferico tra tutti voglio citare un lavoro recentissimo appena uscito su Nature di Ubao et al che ha evidenziato come le foreste tropicali hanno diminuito la capacità di assorbimento delle emissioni antropogeniche degli ultimi vent'anni dal 17 al 6% quindi è un dato che un po' ci invita anche a riflettere e insomma e a tener conto del fatto che stiamo lavorando con dei sistemi biologici che certo si adattano però cambiano la loro funzionalità nel tempo io avrei concluso grazie Costantino anche per lo sguardo al di là del sguardo al 2050 al 2100 con le proiezioni sicuramente sarà un tema da investigare segnalo questo proposito che sempre l'anno scorso però dovrà sarà finalizzato entro giugno abbiamo collaborato come ISPRA con 25 scenari emissivi per quanto riguarda tutto il settore non energia in particolare mi sono occupata del settore dell'UCF e nell'ambito di questi scenari emissivi abbiamo in qualche modo incluso anche uno scenario di riferimento ottenuto appunto immaginando la stessa la prosecuzione delle pratiche attualmente in uso e abbiamo incluso anche l'impatto dei cambiamenti climatici con il supporto del CMCC per quanto riguarda la parte dell'incendio che riguarda essenzialmente l'incidella alla frequenza delle superfici percorse dell'incendio ora detto questo prima di tutto una domanda se potete gentilmente c'è un fruscio che viene da qualcuno io non so chi se è possibile levare il microfono quando non si parla così si evita il fruscio secondo punto allora io leggo che abbiamo ancora quattro presentazioni sono le 12 e 28 quali sono come vogliamo fare proposte perché o tiriamo stando nei 20 minuti l'uno fino alle 2 io posso essere anche rapido posso stare intorno ai 10 12 minuti insomma mi mantengo su traccio solamente alcuni aspetti altri sorvolo non ho problemi io non ho problemi a essere collegato anche a pomeriggio chi è che parlava scusate che non ho visto io sono a disposizione anche nel pomeriggio come era più o meno previsto dall'agenda senza nessun problema sì anche da parte nostra di CRP non ci sono problemi in un senso in un altro lo stesso per noi anche da parte mia sì nessun problema anche a farla dopo come preferite posso stringere o farla dopo nessun problema vogliamo provare allora a stare a finire all'una e poi magari ci ricollichiamo le due e mezzo potrebbe essere un'idea e stiamo un'oretta dopo mi perderete ma ci saranno i miei colleghi vedete voi vedete voi va bene va bene ok allora a questo punto andremo con la prossima che è Massimo Paolanti giusto penso di essere io sono Paolanti sì ora metto in condivisione vado all'inizio sono sono condiviso così ancora no condividi una volta che fa condividi devi selezionare lo schermo che vuoi condividere sì l'ho già fatto risulto adesso adesso ok se per poter sia poi anche nascondi condivisione così abbiamo una visione più grande nascondi e ora metto in presentazione ok vedete tutti allora sono Massimo Paolanti questa attività l'utilizzo di database a livello nazionale per mappatura del perbonio organico nei suoli è sotto il coordinamento e la responsabilità del professor Marchetti diciamo immediatamente lo sosservisco non so se se lo sa per voi l'attività è oltre a me e al professor Marchetti è stata prevedere ha visto il vede il contributo di Mirko De Febbraro che non ha curato questa presentazione e che è lo specialista per quanto riguarda la parte geostatistica siamo partiti con la stima del contorno in carbonio organico nei suoli sui punti dell'inventario dell'uso delle terre d'Italia aiuti sarò breve anche perché noi dal punto di vista presentazione siamo per gli accordi che ha preso Ispra con il professore siamo leggermente fuori tema perché vedremo come primo approccio per i suoli forestali ricordiamo che Unimol DIP appunto l'Università del Molise e CREA hanno lavorato assieme per raccogli e armonizzare informazioni sui suoli sui siti e sulle geografie dell'interno nazionale come catalizzatore un dottorato di Veccio vedete citato per un soldato da peso vitali alla scala 1 a 250 mila e con una pubblicazione che vedete sotto per quanto riguarda il soil routine depth of vitali l'inventario di terre d'Italia è stato prima citato da Circa è un ripetiamo è un inventario che non di tipo geografico ma di tipo statistico e quindi garantisce la possibilità di evidenziare la di conoscere la tendibilità del del dato in termini statistici e anche una rapidità e di conoscità di aggiornamento da questo punto di vista sono la cella è 500 per 500 sono 1 milione e 206 mila punti in Italia e si lega alla nomenclatura citata prima sappiamo tutti ed è importante solamente accennarlo quelli che sono stati i change importanti che abbiamo visto come siano centrali in questo tipo di dato che viene richiesto dai nostri ospedi con attenzione banalmente lo conoscete tutti abbiamo visto questo semplicemente dal 90 al 2016 circa un milione di ettari sono diventati forestali con la drastica diminuzione della superficie agricola dal punto di vista scusate del management come prima c'è il sito abbiamo avuto anche altri cambiamenti possiamo solamente dire che attualmente Lazio stima devono verificare perché sono rimasti loro stessi sorpresi che il 50% della superficie agricola quasi il 50% risulterebbe biologico siamo partiti tra tre regioni per un motivo molto semplice per noi interessati il primo approccio perché a noi interessava avere un'ottima solidità dei dati puntuali essendo stato io il direttore tecnico delle due cartografie regionali dell'Abruzzo e del Lazio avevo una grande confidenza con il dato puntuale e in Molise con il dip abbiamo fatto una serie che è l'unica regione anzi è l'unica regione italiana che attualmente non ha messo in campo un database regionale abbiamo però lavorato con vari progetti di applicazione tematica e questo faceva sì che avessimo una grossa confidenza dei dati abbiamo preso 5.648 siti per un totale di 16.307 orizzonti vogliamo dire puntualmente verificati cioè siti di cui avevamo una completezza dei dati che noi necessitavano che fino a 30 e a 100 cm ci davano le informazioni necessarie e delle quali si potesse garantire anche il corretto la corretta attribuzione alle categorie aiuti che prima abbiamo visto accennate questo e qui è stato un lavoro puntuale corposo i dati in Italia puntuali esistono la base ce ne ha detti ce l'ha accennato io ve lo ribadisco è importante la nostra spazializzazione è stata sulle celle iuti una serie di abbiamo legato tutti questi dati devono avere tra le varie informazioni oltre a quelle che voi conoscete chiare sui suoli e sugli orizzonti dei suoli in ragione delle determinazioni chimiche o delle attribuzioni delle stime fatte effettamente in campo una serie di potersi legare alle covariate geografiche che abbiamo applicato quelle prese dal sole database of Italy a 250.000 di riecio che abbiamo visto prima strati morfometrici creati dall'European Digital Relation Model altri sulle variabili climatiche qui è stata fatta come immagino sia pane quotidiano per molti di voi ma non in cui ho assistito il dottor il dottor Lefebbraro il ricampionamento dei predittori l'eliminazione delle near zero variance l'eliminazione delle variabili eccessivamente correlate sono stati scelti gli algoritmi di machine learning sono state fatte delle valutazioni sugli algoritmi da utilizzare su un sottocampione dei dati cioè quelli che sono stati più performanti ne sono stati selezionati tre su questi tre si è valutato il mirab su un terror lo vedete li vedete qui e abbiamo fatto la scelta è caduta per spazializzare Correggio e sono fatti in questo attività su tutti le categorie aiuti poi ci si è concentrati in questo caso sul bosco così come riferito da aiuti che là il riferimento sono le forest land del forest land le superfici forestali con altezza minima degli esemplari 5 metri in sito copertura almeno del 10% e abbiamo questi dati vedete anche le perform 98,4 e 143,8 vedete la standard deviation e il MAE per le due superfici chiaramente qui la grande quantità di dati ci aiuta ad avere questo tipo di performance una rielaborazione a livello nazionale in ambito sempre forestale sono stati nazionali 8.366 siti con lo stesso procedimento cioè un controllo puntuale che ci garantisse le informazioni ci fosse possibile un successivo confronto fra il dato per la quanto riguarda il management o meglio l'encover di questi puntuali delle stazioni degli stessi siti questi sono fatti in QGIS sono state verificate la presenza di tutti i dati necessari ed è stato in prima approssimazione semplifica ottenuto questo dato interessante chiaramente come potete vedere vedete anche per trasparenza i dati statistici già il mio predecessore circa ci ha parlato appunto della verifica delle variabilità statistiche di questi dati vediamo che il dato che esce a 30 centimetri è praticamente corrispondente al dato per le foreste italiane dell'inventario censito nel NIR ora il nostro procedimento è quello di incrementare soprattutto la base dati puntuale e c'è una collaborazione che appunto è nata in questo caso col professor Chidi che parlerà dopo per aumentare sia lo skills tecnico scientifico di questo per questa per questa attività e sia ovviamente per incrementare la quantità di dati andando quello che chiamiamo ultima slide chiamiamo prospettive in verità prospettive alcune riflessioni che in maniera diciamo semplificata e con vocabolario probabilmente non del tutto consono a un consenso scientifico ricordo semplicemente che Iuti è un sistema campionario che però offre e quindi un'affidabilità statistica certificata offre anche una scansione temporale ora abbiamo avuto l'ultima l'ultima l'eleva nel 2018 una scansione temporale frequente chiaramente sappiamo che i dati all'interno di questi database sono dati che vanno dal 50 agli ultimi dati corposi sono quelli della regione Lazio in cui oltre 1200 profili con circa 4000 orizzonti di suolo inseriti in banca dati sono del 2014 una variabilità in cui che chiaramente necessita dell'applicazione di modelli o di attività che leggano la dinamica perché abbiamo visto anche semplicemente le dinamiche di uso del suolo sicuramente implementazioni di vario grade e vario tipo ricordiamoci il set tutte le attività di ricerca sulle pedofunzioni che devono essere attribuite devono essere utilizzate soprattutto l'ensile apparente che è un dato non sempre rappresentato nei nostri database case ovviamente l'integrazione del dataset che attualmente non è così uniforme e l'inserimento di un'entra climatica tipologica forestale e di gestione che sicuramente può essere fatta siete stati sfortunati il professor Marchetti è molto più bravo e molto più incisivo di me e con questo ho finito grazie molte sto vedendo su su youtube non ci sono domande su questa presentazione almeno finora e siccome prima mi è sfuggito non ho capito chi del gruppo immagino del gruppo ERSA allargato non è disponibile dopo nel pomeriggio però vorrei di anticipare magari la loro presentazione e con questa chiudere e poi lasciare le presentazioni del gruppo CRPA e di Tommaso Chiti e Gregorio Fantoni nel primo pomeriggio lasciando magari un minimo di tempo anche per un'eventuale discussione grazie a Marco che parlavo prima grazie mille gentilissima va bene allora prendo la parola io Stefano Brenna inizio io la presentazione che poi proseguirà Calogero Schillaci e naturalmente se Marco Acutis vuole intervenire interrompere o precisare benvenga noi abbiamo come dicevo una presentazione a due voci nella quale nella prima parte che farò io farò un scurso abbastanza rapido di quella che è stata la nostra esperienza in questi 15-20 anni sul tema della misurazione soprattutto misurazione dello stock di carbonio nei suoli in generale nei suoli agricoli in particolare e successivamente proseguirà Calogero Schillaci che svilupperà invece un approcci tipo modellistico e GIS che in realtà fanno riferimento geograficamente alla Sicilia ad esempio riguarderà la Sicilia ma però sono stati usati poi metodologie e sviluppi diciamo scientifici che nel tempo sono stati sempre condivisi e sviluppati insieme al gruppo di Marco Acutis e quindi comincerei l'unica cosa che non riesco a condividere lo schermo perché ho ancora qui mi risulta Massimo Paolanti presenta e non riesco ad attivare allora Massimo Paolanti dovrebbe staccare la condivisione dello schermo per cortesia ok grazie ecco perfetto vediamo se mi riesce condividiamo lo schermo il tuo intero schermo condividerò ma no lo devo fare qua intero schermo condividiamo e vediamo ecco se si vede adesso non si vede ecco si vede si vede si metti anche la presentazione perfetto arrivo subito spero vediamo ecco ok allora venendo rapidamente alla parte che riguarda essenzialmente la nostra esperienza in materia di stock di carbonio organico nei suoi della Lombardia i primi lavori sono stati fatti a circa metà degli anni 2000 in quello che viene chiamato progetto chioto Lombardia il primo progetto diciamo sistematico strutturale fatto in regione all'interno del quale vennero fatte anche le valutazioni utilizzando i sistemi di dati e di conoscenze disponibili a scala regionale sullo stock di carbonio nelle foreste ad esempio ma anche in agricoltura quindi nei suoli della Lombardia la stima dello stock di carbonio di cui vedete qui riportati insomma i dati essenziali è stata poi dopo rifatta negli anni successivi e aggiornata con diciamo a seguito insomma dell'aggiornamento anche dei dati esistenti qui sono riportati quelli più attuali ma ciò che è importante ricordare credo almeno quello che è il nostro insomma il nostro contributo ai lavori di oggi è che queste stime sono state fatte partendo dal database dei suoli regionali che Ersaf aveva avvestito e che gestisce fatto di circa 4.000 profili quindi 4.000 punti distribuiti nell'intero territorio con prevalenza però nelle aree di pianura e quindi nelle aree coltivate e asseminativi meno densi meno minore densità di osservazioni ci sono nelle aree montane forestali 4.000 punti dei quali erano conosciuti i contenuti in carbonio dalla superficie fino a 150-200 cm di profondità naturalmente questo tipo di analisi poi di sistema di conoscenze intersecato con una base dati dell'uso del suolo consentì anche di fare le estime su quello che era il contenuto medio di carbonio nei suoli per le diverse macro categorie di uso del suolo questi dati sono stati poi utilizzati successivamente qui lo cito perché se ne è parlato in precedenza sia in set diversi naturalmente con modalità poi operative di elaborazione diverse sia ai fini della costituzione della carta dei suoli d'Italia già citata sia in un lavoro che venne fatto da ISPRA coordinato da ISPRA quando ancora si chiamava APAT che fu la prima esperienza strutturale di condivisione dei dati prodotti a scala regionale quindi dal basso per la loro riaggregazione a livello a scala nazionale che dal mio punto di vista rimane ancora oggi un'esperienza metodologicamente molto interessante e che ebbe il fondamentale difetto se vogliamo così dire di non essere riuscito a coprire l'intero territorio nazionale alcune regioni sono rimandolo fuori dal progetto e poi questi testi dati sono stati anche utilizzati ai fini della realizzazione della carta italiana e mondiale del contenuto di carbone dei suoli realizzato nell'aglio della Global Soul Partnership nel 2018 di cui accennava Eduardo Costantini insieme all'intervento che aveva fatto all'inizio ebbene andando avanti subito dopo l'attenzione nostra si spostò dallo stock in quanto tale a quello che era il potenziale di stoccaggio di carbonio nei suoli della regione perché evidentemente noi siamo un ente tecnico che lavora a supporto del governo regionale conseguentemente era soprattutto interessante capire e cercare di valorizzare le potenzialità di alcuno di carbonio in vista poi delle applicazioni delle politiche agricole e soprattutto in generale delle politiche ambientali o agroambientali e quindi attraverso analisi e design di dati anche relativamente semplificate a quei tempi tutto questo servì essenzialmente per identificare per evidenziare il fatto che il maggior potenziale di stoccaggio di carbonio nei suoli era e si verificava nelle zone agricole quindi nei suoli coltivati dove i valori di stock e di contenuto erano più bassi e presumibilmente c'era stato il maggiore tipo a operamento di carbonio dovuto all'attività di sfruttamento intensivo mentre invece da un certo punto di vista negli altri ecosistemi più diciamo naturali formi agli ecosistemi forestali e pascolini d'altra quota invece dove gli stock erano comunque più alti il rischio di era maggiore il rischio di perdite che non il potenziale di ulteriore acù vennero fatte anche ma a titolo di identificazione generale delle potenzialità delle valutazioni molto semplificate di larga massima di quelle che potevano essere i potenziali di sequestro di carbonio inteso come carbonio come CO2 e li riporto qui non tanto perché si hanno valori in assoluto che hanno un significato particolare ma perché in qualche maniera dopo anche molti anni dopo a seguito di esami analisi più sofisticate più approfondite dal punto di vista scientifico anche di tipo modellistico però grossomodo confermarono quelle che erano state le cittime di quei sempre allora e questo venne fatto nell'analisi di un progetto che si chiamava Soyquaremon e in collaborazione con Gersi di Ispora in particolare con Vladimir Stolbo uno scienziato che lavorava in quei tempi presso il JRC cominciamo ad affrontare il problema della misurazione noi veniamo da questa esperienza che abbiamo sempre fatto nel passato profili pedologici scavati misurati rilevati i suoli e è innegabile che il contenuto anche il contenuto in carbonio nel suolo insomma è caratterizzato da una grandissima variabilità che si manifesta in forma diversa c'è variabilità di contenuto in carbono tra suoli dipende dagli usi del suolo ma dipende dalla gestione c'è variabilità all'interno degli stessi terreni quindi all'interno delle stesse notte di campionato in sostanza c'è una variabilità anche che si muove su distanze molto ridotte e ristrette ci sono state nel tempo di una serie di esperienze che lo hanno ovviamente iniziato in sostanza questo tipo di attività questo progetto si occupò di cercare di testare una metodologia di misurazione degli stock e delle variazioni quindi dello stock di carboidio nel tempo all'interno di una determinata unità di monitoraggio tale da combinare da un lato l'esigenza di tipo tecnico scientifico di misurare questa variabilità e di consentire almeno un minimo di trattamento statistico dei dati e dal lato che però fosse anche una metodologia diciamo sostenibile dal punto di vista dei costi e dell'impegno in termini di lavoro che era necessario per poi dopo poterla effettuare lo riporto perché il lavoro tra l'altro non venne fatto solo in Lombardia venne fatto anche in collaborazione con altri gruppi pedologici regionali in Piemonte in Romagna forse in Veneto adesso non ricordo esattamente ancora oggi questo metodo di campionamento con alcune ulteriori adattamenti e semplificazioni devo dire perché insomma era comunque piuttosto complesso e articolato ma comunque è ancora lo schema di campionamento di riferimento che utilizziamo e che da allora abbiamo utilizzato in tutti i lavori successivi che hanno riguardato questo tema in una fase ancora successiva è quando anche le metodologie IPCC per l'accounting del carbonio cominciavano a diventare di conoscenza e di dominio più comune anche alle scale regionali vennero fatte poi anche delle valutazioni sempre utilizzando le basi dati regionali su quelle che erano le differenze degli stock quindi sempre i potenziali di variazione basati sui dati misurati al variare degli usi del suono e quindi in qualche modo vennero poi aggiornati i dati riconfermati sostanzialmente anche se con piccole differenze inevitabilmente quelle che erano poi dopo le valutazioni che avevo presentato nella prima slide che vennero fatte inizialmente quindi sempre per evidenziare quelle che erano le possibilità che il cambiamento di usi del suono potevano determinare nelle valutazioni degli stock regionali nel passaggio ulteriore siamo ormai negli ultimi 5-6 anni la nostra attenzione in regione si è spostata all'analisi del crop management ed essenzialmente degli effetti che nell'ambito dei suori coltivati è determinato o può essere determinato dalle variazioni nella gestione dei suori perché l'esperienza che stavamo facendo segnalavano che questo era poi alla fine l'elemento principale che poteva incidere sulla gestione sullo stock di carbonio all'interno dei suori e quindi iniziamo a comparare gestioni cosiddette convenzionali altre volte ne sono chiamate anche qui nelle slide tradizionali con gestioni cosiddette conservative basate su combinazioni di pratiche culturali di tipo diverse ma che avevano come uno degli scopi anche della stessa agricoltura conservativa ma anche uno degli effetti principali è quello di aumentare il tasso di carbonio contenuto nei suori la nostra esperienza noi siamo come sapete un'azienda una regione molto zootecnica dove c'è molta zootecnica e quindi anche un grandissimo uso di effluenti zootecnici ebbene sicuramente era noto già da tempo che i suoli con presenze che venivano trattati con gestione e distribuzione di elevate quantità di foneti zootecnici in generale avevano un contenuto di carbonio superiore a quello dei suoli invece che non ricevevano questo tipo di materiali però in generale questo tipo di differenze non sono mai non abbiamo mai dato differenze così elevate e significative come invece è stato possibile rilevare in molti casi in cui invece venivano applicate gestioni interconservative però qui vediamo i risultati di quello che vengono tutti i primi studi fatti in quei tempi in cui venivano messi a confronto appunto gestioni conservative convenzionali in questo caso nei suoli argilosi riporto il caso dei suoli argilosi perché a quei tempi la condizione generale era che le pratiche conservative invece funzionassero meglio quindi avessero maggiori effetti nei suoli stati invece la nostra esperienza per quello che può valere nel nostro piccolo dice che è piuttosto il contrario sono soprattutto i suoi fini quelli nei quali se le pratiche di gestione sono adeguatamente applicate è possibile ottenere i maggiori incrementi di stock di carbone un altro aspetto che va tenuto presente è che naturalmente come è ben chiaro insomma sicuramente a tutti quanti quando parliamo di stock non possiamo limitarci a considerare il parametro concentrazione di carbone nei suoli va considerata anche la densità apparente e quindi tutto il tema del problema della misurazione a massa costante piuttosto che a volume costante facciamo quindi in quei tempi tutta una serie di prove nella sostanza però insomma l'esito e i risultati del nostro lavoro ci disse che la differenza o perlomeno la grandissima ma la maggior parte di questa differenza era comunque dovuto a variazioni effettive nel contenuto in carbonio e non a differenze diciamo mascherate o amplificate viceversa da variazioni nella densità apparente prendiamo quindi agli anni più recenti al progetto Life Help Soil anche quel progetto che come vostre tutte le regioni del mondo d'Italia e 20 siti sperimentali 20 aziende sperimentali distribuite in tutta la penura padana che è da Friuli fino al Piemonte anche in quel caso vennero fatti confronti fra gestioni convenzionali i dati sono riportati qui in arancione e invece conservativa in rosso in aziende che però avevano ordinamenti culturali molto diverse e che da tempi diversi erano passate a gestire in modo conservativo i loro suoni ebbene questa esperienza che naturalmente era un progetto con carattere dimostrativo anche se applicava poi metodologie scientifiche sostanzialmente si vede come nelle aziende che si stavano convertendo alla gestione conservativa con il progetto quindi all'inizio del progetto non c'erano grandi differenze nel contenuto in stock di carbonio queste cominciano a vedersi dopo un po' di anni e diventano più evidenti col passare del tempo conferma naturalmente che questi tipi di incrementi di variazioni sono e avvengono su tempi relativamente lunghi per cui il tema della permanenza della gestione dei suoli secondo determinate modalità quindi tali da incrementare il carbonio di suoli rimane un tema evidentemente centrale sempre in quell'ambito e questa è una parte specifica che venne curata dall'università di Milano quindi da Marco Acustese e dal suo gruppo attraverso i dati che erano stati rilevati e misurati nelle aziende di Alpsol vengono fatte delle applicazioni modellistiche con un modello che si chiama Armosa nato molti anni prima essenzialmente per valutare e per simulare il destino ambientale dell'azoto ma che successivamente è stato sviluppato da Marco in modo tale da simulare insomma da replicare non solo il ciclo dell'azoto ma anche il ciclo del carbonio e insomma vennero messo a comparazione di nuovo le gestioni convenzionali con quelle nottilage quindi con le modalità conservative di gestione dei suoli in presenza di rotazioni con presenza o senza presenza di cover drop e quindi di coperture permanenti nel tempo non solo nello spazio ma anche nel tempo dei suoli e due diversi scenari climatici e sostanzialmente questi dati insomma in qualche modo confermarono che le gestioni conservative hanno in grado di accumulare carbonio in modo ragiontivamente significativo il ruolo però delle coperture quindi c'è tutto il tema delle modalità di applicazione delle pratiche anche conservative in generale le pratiche che sono in grado di accumulare carbonio mentre invece sempre questi risultati modellistici evidenziavano dei rischi e delle potenziali permette in presenza di gestioni diciamo in una situazione di continuità della gestione convenzionale diciamo tradizionale all'interno delle aziende arrivo all'ultima slide diciamo di mia competenza solo per accennare agli ultimi sviluppi e quindi agli ultimi temi sui quali adesso stiamo lavorando stiamo cercando di sviluppare nel nostro piccolo come poche risorse che abbiamo a disposizione devo dire una serie di esperienze e quindi diciamo l'utilizzazione del sol box in un senso per un'analisi in misura della variabilità degli stock di carbonio all'interno di unità di monitoraggio di aree che sono oggetto di isolazione del carbonio abbiamo iniziato a confrontare i risultati che si ottengono attraverso questo tipo di approcci con gli approcci tradizionali che noi utilizzavamo in precedenza trovando devo dire una buona corrispondenza e qui lo scopo è quello di capire se è possibile poi dopo avviarsi verso sistemi di misurazione di monitoraggio diciamo più estesi e che non si usino a numeri molto ridotti di situazioni nelle quali riescono nel nostro caso almeno ad essere effettuate poi dopo questo tipo di misura abbiamo poi elaborato una proposta di progetto finalizzata per la definizione di una metodologia di accounting e forse ancora prima che di accounting di monitoraggio per la stima degli storici di carbonio nelle sue variazioni nell'ambito di un progetto al quale poi dopo stengo a ricordarlo abbiamo raccolto il contributo e i suggerimenti importanti di molti anche dei presenti ho fatto qualche pasticcio da Grea Roberto Farina Leonardo Costantini Simone Priori e poi dopo Stefano Caserini naturalmente che a livello lombardo sono uno dei principali esperti in materia di cambiamento climatico ma la stessa Ispro in realtà di Tullo oltre che naturalmente a Marco Cusis anche il CNR venne coinvolto e adesso stiamo cercando comunque di sviluppare man mano con le risorse che abbiamo una rete di monitoraggio dello stock di carbonio nei suoli e anche di altri indicatori di qualità dei suoli che possa poi essere il supporto per le politiche ambientali e le valutazioni ad esse connesse in vista della nuova PAC PSN quindi io concluderei qui solo per accennare il fatto che uno dei temi che comunque è uno dei punti che almeno nella mia esperienza è determinante che dovrà essere preso in considerazione è il tema delle analisi dei metodi di analisi e anche dei laboratori delle modalità con cui effettuare questa parte questo passaggio insomma del processo di valutazione degli stock io permettetemi di concludere con una battuta la cosa mi è contegnata vedendo la presentazione precedente una delle due non la penultima insomma quando si accennava ai dati di Lucas che sono diversi da quelli ottenuti attraverso altri tipi di applicazioni io ricordo che 30 anni fa non avrei mai messo in dubbio il dato di un analisi di laboratorio c'era come dire una sorta di certezza fidelistica nel dato di laboratorio un tempo passa e penso che questo sia uno dei punti invece più critici da analizzare e da considerare per effettuare poi dopo effettive e realistiche valutazioni nelle variazioni negli stock di carbone bene mi fermerei qui e a questo punto passerei la parola a Carogero Stefano c'è una domanda dalla parte di Edoardo Costantini su Youtube che vorrebbe sapere se avete dati di variazione di stock al di sotto dei 30 cm in seguito al cambio di gestione diciamo che ne abbiamo qualcuno ma purtroppo pochi per arrivare a delle conclusioni onestamente perché purtroppo i progetti e le risorse a disposizione non ci hanno consentito in genere negli ultimi anni di approfondire diciamo così anche proprio in profondità nel suolo questo tipo di indagni la mia per quel che può valere minima esperienza che ripeto si basa su osservazioni limitate è che almeno nei suoli agricoli al di sotto dei 30 cm non si osservano poi più grandi differenze e variazioni nel tempo dello stock di carbone al cambiare della gestione grazie quindi a questo punto facciamo terminare la presentazione a si calogero domande si possono fare o siamo fuori coi tempi no si soltanto che la presentazione ancora non è terminata se capisco bene si c'è la scuola si si come volete se volete vogliamo fare in due parti oppure come credete non c'è problema se se le tue parti sono divise cioè se questo è quello che riguarda se ho capito bene la tua parte riguardava la Lombardia mentre Calogero farà un focus sulla Sicilia giusto? esatto esatto e a questo punto se c'è qualche domanda inerente la parte che appunto Stefano appena presentato possiamo prenderla adesso la mia non vorrei che fosse troppo tecnica per altri uditori o richiedesse più tempo mi torna da un punto di vista empirico il discorso sui suoli sabbiosi e sui suoli argillosi immagino che quando tu hai fatto i suoli più fini come hai detto tu immagino che quando tu hai detto suoli sabbiosi fosse generale non ti riferissi precisamente unicamente a una tessitura sabbiosa per intendersi al sabbioso sabbioso franco franco sabbioso così ho immaginato torna e questo chiaramente complica o arricchisce secondo me il discorso tecnico per interpretazione del management perché non agisce da tutte le parti nello stesso modo e che poi il management che noi applichiamo è semplificato io sto verificando che soprattutto nel Lazio a parità tra virgolette di management c'è una forte e palpabile riduzione degli impatti chiamiamolo così dell'agricoltura minori lavorazioni lavorazioni meno profonde minor livello di input questo generalizzato per un livello di difficoltà del settore che punta in ogni caso a una diminuzione delle spese correnti delle aziende Sì sì è un trend generale che c'è anche da noi oggi molti agricoltori tendono a ridurre i costi anche attraverso una riduzione dell'intensificazione delle lavorazioni 30 anni fa si era a 40 50 centimetri oggi possiamo dire che non l'ha fatto nessuno ad esempio ecco questo diciamo apre anche a dei problemi se c'è una certa tendenza all'applicazione di misure ecocratiche che adesso significano che io chiamo sempre conservative però molto come dire riduttiva poco approfondita che in realtà non sono tali da determinare particolari variazioni poi dopo dal punto di vista del miglioramento delle funzioni ecologiche dei suoi fra cui anche l'accomodo di carbonio per cui il tema poi dopo anche della contabilizzazione della misurazione delle aree interessate da certi tipi di maneggimento rispetto ad altri è altrettanto un tema insomma che pone delle domande insomma pone delle requisite e necessità di approfondimento invece sul riferimento iniziale sì ho parlato di suoli sabbiosi argillosi nella diciamo tipica sezione aeronomica in quel momento insomma in modo molto semplificato e senza riferimento a specifiche classi tessiturali o granulometriche insomma se non ci sono ulteriori domande io passerei la mano a Calogero mi chiederei di ricondividere la presentazione così è più semplice io penso di essere riuscito per cui sì bene ditemi se riuscite a vedere la presentazione sta caricando penso ok perfetto ecco allora ringrazio tutti il dottor Brenna la dottoressa Vitullo diciamo cerco cerco di collegarmi con la prima parte della presentazione più operativa con un focus regionale anche se la mia presentazione a questa parte ha un focus regionale il taglio è più di analisi dei grandi dati perché il database che abbiamo utilizzato il database storico come prima faceva riferimento il professore Marco Cutis è un database ricco di circa 5.000 osservazioni della regione Sicilia e quindi quello che si è cercato di fare durante la mia tesi di dottorato e poi subito dopo è stato cercare di utilizzare al meglio questa informazione precressa utilizzando metodi di machine learning e mano a mano aggiungere complessità già al tema che è abbastanza complesso è comparare i risultati di diversi algoritmi come ho visto è già stato fatto prima in alcune presentazioni precedenti e il primo tentativo di mappare la sostanza organica lo stocchi di carbonio in Sicilia è stato fatto utilizzando un modello un modello chiamato boosted regression tree che è un'evoluzione dei modelli di regressione per studiare un grande dataset che è costituito sia dai dati campionati quindi i dati presenti nel database siciliano insieme a una serie di covariate ambientali quali per esempio il clima ovvero una rappresentazione del clima a scala regionale presa da WorldClim che sarebbe un database mondiale del clima a scala di un chilometro e immagini satellitari di vari sensori a media risoluzione quali l'ANSAT 7 e l'ANSAT 5 per andare indietro fino al tempo del campionamento reale del database cercandosi di avvicinare al periodo centrale del campionamento e anche dati topografici quali i dati derivati da un modello digitale a 30 metri molto dettagliato che poi sono stati riscalati alla scala del modello che è stato 100 metri infatti qui adesso passerò in rassegna i dati utilizzati per la modellazione quali gli indici topografici che si ottengono direi facilmente ma necessitano di una conoscenza del trattamento del dato del modello digitale ma e poi si sono rivelati molto utili nella modellazione dello stock di carbonio e hanno guidato proprio la hanno guidato la predizione come dicevo prima sono stati usati pure predittori da telerilevamento perché si è usato il Lanzat 5 non nel Sentinel è dovuto al fatto che il campionamento i vari campionamenti che poi costituiscono quel database chiamato Legacy sono relativi a quei periodi in cui ancora Sentinel non era presente mentre Lanzat essendo Lanzat 5 la missione di più lunga di più lunga durata ci consente di ottenere immagini satellitari anche dei primi anni 2000 anche degli anni 90 ecco qui i risultati del primo lavoro di modellazione dello stock fanno vedere a sinistra vediamo una classifica dei predittori che hanno guidato la classificazione la predizione del carbone organico e vediamo le piogge l'annual rain sta per la pioggia mediano la tessitura l'uso del suolo in quel caso abbiamo usato il corin del 2000 la temperatura media annua dopodichè la banda 8 del Lanzat consiste nell'immagine pancromatica come se fosse una vera e propria fotografia però ha una scala spaziale di 30 metri dopodichè vedete l'ingresso dei predittori topografici quali lo slope la pendenza l'aspect e molti altri predittori topografici in questa mappa si vede in verde ovvero verde chiaro e verde più scuro tutti quei punti che sono stati predetti sono stati predetti dal nostro modello con un valore o un output non più non più grande del 50% o più piccolo del 50% rispetto al valore osservato logicamente c'erano dei punti in cui la predizione non era ottimale ma a scala regionale portando su mappa i risultati del modello si può vedere che comparando il nostro modello che vedete qui nel box rosso con altre mappature considerate di riferimento quali le mappature del World Soil Institute dell'ISRIC del progetto Soil Maps oppure le mappature del GRC del 2012 a scala europea vediamo che il nostro risulta seguire di più la variabilità topografica e si avvicina molto al modello di ISRIC anche se ISRIC sovrastima un po' i contenuti degli stocchi di carbonio ecco i risultati salienti come vi accennavo prima ci portano a sottolineare l'importanza dei predittori climatici topografici e dell'uso del suolo nella predizione del carbone organico del top soil ma anche l'importanza dei dati satellitari che in questo caso hanno influito che ci hanno dimostrato che una banda pancromatica avesse più peso nella modellazione rispetto a un indice fogliare ovvero l'NDVI che è molto usato in questo tipo di modellazioni un secondo lavoro ha visto la mappatura del carbonio in due periodi perché abbiamo scelto questi due periodi perché nel database c'erano due grandi campionamenti uno nel 93 e 94 e l'altro nel 2008 che ci consentivano di raccogliere un numero elevato di dati è spazialmente ben distribuito sull'isola tale per cui abbiamo potuto mappare a scala regionale in questo caso la concentrazione di carbonio nel top soil utilizzando il frame modellistico che avevamo utilizzato precedentemente come vedete qui la distribuzione spaziale del 93 del campionamento del 93 del 2008 come vedete è molto ben spazializzata anche se questi punti come diceva prima il professor Akutis non sono coincidenti perché nei vari campionamenti svolti nel passato non si è mai tornati quasi mai molto raramente non si è mai tornati sullo stesso punto perché ce lo chiediamo essendo me l'ho chiesto durante il periodo del dottorato mi è venuto insieme al professor Akutis abbiamo pensato a sviluppare questo metodo di confronto di due mappe derivate da dataset diversi presi in posti diversi che consentono in ogni caso data la buona accuratezza delle mappe dimostrare poi la differenza tra due periodi questo è un lavoro pubblicato su Science of the Total Environment credo che ci sia pure il link nella presentazione infatti se volete poi potete scaricare il lavoro da questa modellazione quello che è venuto fuori è che sostanzialmente il carbonio tra i due campionamenti sia aumentato in alcuni punti in cui potenzialmente ci si aspettava un aumento del carbonio mentre in altri punti non è variato risultati di questo lavoro fanno vedere come ci si aspettava che il contenuto di carbonio è più basso nei sistemi adattivi più alto nei frutteti nei vigneti dell'isola e ancora più alto in quel land use che è Corin classifica come complex cultivated pattern ovvero sistemi in cui coesiste l'agricoltura ovvero i sistemi adattivi insieme a sistemi di colture perenni e insieme pure ad aree naturali quindi questi i punti che sono ricaduti in questi complex cultivated pattern hanno sempre avuto il contenuto di carbonio più alto le due barre del grafico mostrano la modellazione con essenza preditori derivati da telerilevamento e si vede chiaramente che quando abbiamo usato il telerilevamento la predizione è stata leggermente più bassa per concludere questa modellazione ci ha consentito di comparare due situazioni regionali di distribuzione del carbone organico a 15 anni di distanza l'una dall'altra e quello che è risultato dal modello ovvero che i preditori che guidano la distribuzione sono tessitura uso del suolo mentre in questo caso gli indici topografici e gli indici climatici hanno giocato pure un ruolo importante in questa modellazione mentre i preditori derivati da telerilevamento hanno influenzato la stima sostanza riducendo modellando una riduzione del contenuto in carbone organico credo che sia finito volevo ringraziarvi anche se non c'è una slide di ringraziamenti per l'attenzione grazie calogero sto seguendo su youtube non ci sono domande al momento quindi non so se ci sono domande dai colleghi collegati bellissimo Giovanni Labate volevo sapere chiedere intanto complimenti carogero ciao ti volevo chiedere se hai notato in qualche modo rispetto alla carta della FAO se hai avuto modo di fare confronti anche generali insomma su di confronto tra le tue spazializzazioni e quella della FAO ecco il lavoro nel nostro lavoro è stato pubblicato prima della mappa mondiale quella del carbonio a cui ti riferisci i pattern generali sono gli stessi ovvero vediamo l'aumento del carbonio nella regione meridionale est siciliana quella dei Montiblei mentre poi per il resto diciamo non possiamo confrontare uno a uno perché i dati che sono entrati lì nel modello siciliano potenzialmente sono diversi da quelli che sono entrati e questo l'abbiamo notato pure facendo dei confronti con due due dataset provenienti da due periodi diversi che mostrano pattern simili ma valori diversi di carbonio in una scala diciamo relativamente anche ampia di valori va bene grazie se non ci sono altre domande io ritornerei con la proposta di prima ovvero di fare un'oretta di sospensione e riprendiamo magari le due e mezza per la presentazione di Tommaso Chichi e del gruppo CRPA Angela ci vuoi dare delle istruzioni su come fare? Sì allora io consiglio di rimanere tutti collegati diciamo disattivando il microfono della webcam in modo che poi per ritrare alle due e mezza precise ci siamo detti giusto un'ora precisa alle due e mezza siamo tutti di nuovo qui però non facciamo cadere la connessione così speriamo continui a funzionare tutto compreso lo streaming che continua ad andare diciamo andrà sul nero ma almeno dovrebbe continuare a funzionare più che altro diciamo pensiamo di fare una pausa in modo che poi la discussione finale possa essere più rilassata e magari anche più insomma possiamo scambiarci un po' di idee con più calma altrimenti penso siamo tutti con le pille scariche a questo punto non lo faremmo in modo proficuo insomma va bene va bene a tutti sì grazie va bene allora disattivare webcam e microfono dopo alle due e mezza va bene arrivederci saluto tutti quanti comincio io questa presentazione che condivido insieme a Laura Valli noi come CRPA portiamo un contributo a questa discussione che è quello che deriva da un progetto che stiamo coordinando che riguarda sostanzialmente i sistemi coraggeri è un progetto LIFE che ha come obiettivo quello di valutare come le emissioni e i sequestri che avengono all'interno dell'attività zootecnica possono appunto contribuire anche a una valutazione di quelle che possono essere i bilanciamenti appunto tra sequestri e emissioni in questa attività solo due parole sul progetto non ve lo voglio raccontare ma semplicemente per sottolineare che potete trovare tutto presso sul sito internet come vi dicevo è un progetto LIFE di mitigazione che è coordinato dal CRPA ma vede la attiva collaborazione di una serie di partner universitari sia italiani l'Università di Milano di Sassari e di Torino e l'Università di Agraria di Atene e quindi anche un partner greco sostanzialmente il progetto si occupa come vi dicevo di sistemi foraggeri di sistemi foraggeri che riguardano la produzione del latte perché lavoriamo in Pienura Padana per quello che riguarda le vatte da latte in Sardegna e in Grecia per quello che invece è la produzione del latte di Tattino e ci occupiamo quindi di quei sistemi agricoli che sono riferiti alla produzione di latte cioè quei sistemi agricoli che non fanno non producono tanto per l'esterno quindi non producono delle latte che escono dall'azienda come cereali o frutta o quant'altro ma producono foraggi cioè delle biomasse che vengono reimpiegate principalmente all'interno dell'azienda agricola come alimenti per gli animali in sostanza l'azienda zootecnica come ha accennato anche il dottor Brenna prima e come probabilmente molti di voi sanno è una cosa che assomiglia molto ad un circuito che dovrebbe essere virtuoso dove praticamente si producono degli alimenti delle biomasse che vanno agli animali e dagli animali abbiamo un ritorno di carbonio al suolo attraverso le deiezioni perché è praticamente obbligatorio indispensabile un'opportunità non sempre ben utilizzata quella appunto di veicolare i regli zootecnici come fondi di adotto quindi come fertilizzanti ma anche appunto come portatori di sostanza organica principalmente allora il nostro progetto si occupa principalmente di due aspetti è un progetto dimostrativo come tutti i live e quindi vuole dimostrare come ci possano essere delle buone pratiche che sono efficaci sia a ridurre le emissioni di gas e del conserva ma quello che ci interessa principalmente oggi a salvaguardare o ad aumentare quelle che sono le riserve di carbonio del suolo in genere come vedremo i contenuti di carbonio del suolo delle aziende ecotecniche sono sempre abbastanza elevati anche se ci sono all'interno di queste casistiche delle situazioni molto differenti proprio perché questo effetto di un'acchia di leopato lo ritroviamo abbastanza anche nelle aziende che producono animali come distribuzione del carbonio nei suoli l'altro elemento di contributo che vorrebbe dare il progetto sono degli strumenti di contabilizzazione sia chiaramente degli stock di carbonio che delle emissioni che possano valutare gli interventi di mobilizzazione che vengono fatti noi ci rivolgiamo non al sistema identale come abbiamo sentito oggi ma sostanzialmente in questo senso al sistema di enda al sistema piccolo territorio e questi strumenti dovrebbero essere ovviamente vorremmo fossero in grado di valutare quelle che possono essere le buone pratiche che vengono introdotte nella cliente per venire alla nostra esperienza noi oggi vi parleremo dell'esperienza che abbiamo fatto anche direttamente con i CRPA e come gruppi del Nord Italia sulla attività delle vacche da latte ma chiaramente poi lo stesso potremmo dire anche per quello che attiene l'allevamento degli oli caprini anche se avvengono i sistemi che possono essere intensivi e anche molto meno intensivi di quello che è il sistema latte che è nuova padrata allora come come vedete da questa cattina il progetto è iniziato con un monitoraggio svolto su 46 aziende che sono state valutate visitate valutate per l'incorso del carbonio del latte quindi per le emissioni di gas di malderanti ma anche per la dotazione di carbonio dei suoi cosa stiamo facendo adesso è applicare queste tecniche di liquidazione e provare gli strumenti di contabilizzazione di cui poi Laura vi farà vedere un esempio verso la fine della presentazione allora di queste 46 aziende nell'ambito delle attività che sono state fatte sono stati individuati quelli che sono i sistemi foraggeri i sistemi foraggeri non sono altro che delle rotazioni finalizzate quindi dei sistemi agricoli delle rotazioni degli avvicinamenti culturali che sono finalizzati alla produzione principale dell'azienda che è il latte in queste 46 aziende noi abbiamo individuato 6 tipologie di sistemi foraggeri di questo abbiamo seguito direttamente il sistema produttivo del parmigiano reggiano che utilizza soltanto i fiemi saprete che nella produzione del parmigiano reggiano è vietato dunque gli alimenti fermentati quindi i foraggi si possono conservare soltanto come pieno possono essere utilizzati per i skik pieno falciato quindi abbiamo due sistemi il primo caratterizzato da rotazioni medica cereale cattura del rinnovo di nuovo medica un sistema coraggiero simile a quello precedente ma in aziende dove per tradizione si usa anche per la fresca quando la stagione lo permetta e dove sono presenti oltre che questa rotazione di cui abbiamo parlato tipica del parmigiano reggiano anche dei tratti permanenti molto tradizionali condotti in modo tradizionali che noi chiamiamo permanenti perché nella nostra zona del parmigiano reggiano vicino a Reggio Emilio e nella zona di produzione attorno al Mincio nella provincia di Padova ci sono questi tratti che non vengono rossi almeno da 40 a 50 anni quindi dei tratti che sono rimasti lì mai arati per questo importante numero di anni poi abbiamo invece degli altri sistemi coraggieri dove vengono utilizzati insilati e in questo caso abbiamo il classico sistema coraggiero convenzionale a base di insilato di mais dove spesso volentieri si trova anche il mais in monocoltura abbiamo abbiamo un sistema in cui all'interno della rotazione che vede il mais sono inseriti però anche dei cereali autonno vermini utilizzati o per fare pieno o per fare insilato ma che comunque si inseriscono in un doppio raccolto che vede l'inverno la terra coperta con cereali autonno vermini e poi successivamente la coltivazione del mais in secondo raccolto in genere un altro sistema coraggero che invece abbina alla coltura del mais che può in realtà esserci o non esserci la produzione di insilati di alta qualità sia di cereali che di leguminose appunto vediamo una loiesa quindi un medicamento che vengono comunque conservati attraverso l'insilamento in più abbiamo individuato un sesto sistema coraggero che raggruppa sostanzialmente il biologico e tutto quello che non ha inserito negli altri ora cominciamo a vedere i risultati di questo monitoraggio allora sostanzialmente noi in queste aziende abbiamo eseguito delle prenie della parte 030 del suolo e sono state fatte delle analisi del contenuto di carbonio organico queste analisi non sono rappresentative di tutta l'azienda ma sono rappresentative delle colture maggiormente presenti quindi possiamo avere campionato dei suoli dove erano in rotazione delle colture estremamente foraggere e quindi possiamo avere nelle rotazioni semplici dalle due le 4 colture nelle rotazioni più antiche in generale andando a mediare i risultati degli aziende servizi per sistemi coraggeri vedete che sostanzialmente abbiamo dei contenuti di carbonio organico nel suolo come azienda autotecnica tendenzialmente più elevati di quelli che troviamo in genere in altre tipologie di aziende per farvi un esempio conosciamo le aziende che fanno seminativi nella zona del terrareso del ravenato in un'azienda dove anche la corticilia non c'è hanno livelli massimi che noi abbiamo trovato in esperienze varie che stiamo facendo in tutti gli anni massimi di sostanzialmente di carbonio organico nel suolo che arrivano a 10 11 grammi per per chilo di suolo quindi insomma delle dotazioni sicuramente bassi le dotazioni massime nonostante ci sia una variabilità bastante elevata che abbiamo nei sistemi coraggeri del parmigiano reggiano specialmente in quelli che prevedono anche la presenza dei parmi stabili e le dotazioni minori però come vedete con una forlice molto ampia ce li abbiamo nei sistemi convenzionali quelli a monocultura di mais quelli basati sull'insegnante di mais però ecco questa situazione media diciamo così ci riflette il fatto molto ben conosciuto a cui è stato accennato anche questa mattina che le aziende zootecniche hanno un quantitativo di carbonio organico nel suolo che è sempre elevato e tendenzialmente collegato alle unità live quindi alle uva sostanzialmente che noi abbiamo per ecco questa immagine però per farci capire che è vero che la sostanza organica aumenta in modo progressivo man mano che aumentiamo lo stocking rate però attenzione perché poi intervengono tutta un'altra serie di problematiche di incidiazioni di emissioni dell'azoto molto molto importanti quindi certamente neanche noi zootecnici di estrazione vogliamo fare passare il messaggio che tanta sostanza organica è comunque sempre bene bisogna trovare una dimensione trovare la giusta utilizzazione anche di questa risorsa tornando alle attiende questo è l'andamento in termini di tonnellate di carbonio per ettaro che noi abbiamo trovato nelle diverse attiende come vedete il dato medio comunque sempre attorno a 70 tonnellate di carbonio per ettaro noi come progetto avevamo preso una baseline presa dalla letteratura e presa dall'esperienza nelle attiende diciamo con un sistema foraggiero un pochino più tradizionale verso l'insilato di mais che andava sostanzialmente tra le 47 e le 60 tonnellate per ettaro bene quello che abbiamo trovato ci dice che la media è comunque superiore alla baseline questa distribuzione potrebbe andare in larga misura nello stesso modo in cui va la sostanza organica nei sistemi foraggeri nel senso che qua troviamo soprattutto parmigiano reggiano con prati stabili quindi quello più tradizionale con anche i foraggi verdi ma non solo perché abbiamo anche aziende di altri sistemi foraggeri e così come abbiamo aziende più intensive del parmigiano reggiano che si trovano anche in questa zona dell'istogramma però da questa situazione emerge che comunque quella categoria di colture che non può essere messa nel pascolo e che viene spesso calcolata come crop giustamente può avere degli apporti e comunque dare dei contributi in termini di carbonio organico del suolo importanti quello che l'altra parte dell'attività di cui volevamo parlare è il contributo che il nostro progetto potrebbe dare relativamente agli strumenti per andare a monitorare la dinamica del carbonio nel suolo che è un problema come l'ho sentito questa mattina molto grande in termini di avere comunque delle misure che possano ricoprire degli atti di tempo importanti e la difficoltà poi anche di andare ad eseguire dei fantastici analisi molto importanti in termini quantitativi e rispondenti probabilmente anche alle esigenze dei monitorati sostanzialmente noi abbiamo fatto due tipi di strumenti il progetto ha fatto due tipi di strumenti uno per la determinazione del carbone organico nel suolo in tempi rapidi è una metodica come diremo una metodica NIR quindi abbiamo sviluppato delle previsioni NIR per il carbone organico e per qualche altro parametro del suolo in modo tale da poter andare eventualmente adiversificare la maglia del mappaggio della situazione del carbone dei suoli e dei dettori e anche magari per misurare con un impatto economico e ambientale perché comunque quando parliamo di analisi chimiche per il carbone organico abbiamo uno di agenti che possono comunque avere un impatto sull'ambiente non piccolo andare quindi a surrogare l'analisi chimica l'altra parte invece di cui parlare a Laura riguarda i modelli di simulazione per valutare le dinamiche e le applicazioni delle buone pratiche relativamente al metodo che noi abbiamo sviluppato non abbiamo fatto niente di particolarmente originale nel senso che la letteratura riporta al di là di tutta un'applicazione applicabilità della spettroscopia Nier nella valutazione di una marea di parametri compositivi la nostra esperienza con il CDPA viene più che altro dalla valutazione dei foratti e delle biomasse che abbiamo cominciato a fare con tecniche rapide già negli anni 90 comunque la letteratura riporta diversi esempi di applicazione della spettroscopia anche nell'analisi dei suoni e quindi rispondendo a quelle che sono le caratteristiche di questo tipo di analisi che va attagliata produrre delle calibrazioni che siano attagliate alle famiglie di campioni quindi alla caratteristica dei campioni che si vogliono poi analizzare abbiamo sviluppato delle curve di predizione partendo dalla base dei suoni che abbiamo raccolto di cui prima vi ho fatto vedere i risultati andando poi a incrementare la popolazione dei campioni con altri campioni provenienti da altre zone della pianura padana in modo da costruire una predizione più robusta qui così molto brevemente come avviene lo sviluppo di una calibrazione NIR praticamente si parte dell'acquisizione degli spettri e poi si vanno ad associare questi spettri che sono una sorta di carta di identità del campione a delle analisi di esperimento e questo servirà in un secondo tempo una volta utilizzati i modelli per realizzare le predizioni relativamente ai campioni di suolo noi abbiamo utilizzato questo strumento uno spectra star che funziona sostanzialmente comunque su un prodotto macinato quindi abbiamo preparato i campioni citandoli all'aria facendo una macinazione a mulino a granulometria circa di 2 millimetri che poi viene eletto in questo riflettante in questo strumento che lavora con delle lunghezadonde tra i 1200 e i 2400 nanometri con un passo di uno quindi in grado di fare delle scandalizzazioni molto precise in sostanza i risultati sono questi le nuvole questa è sostanzialmente la distribuzione dei nostri campioni nello spazio per una visualizzazione che in genere andrebbe fatta poi su altre dimensioni per capire bene la distribuzione ma comunque ci dà l'idea di quanto è coperta la rappresentatività del parametro che noi vogliamo della popolazione che noi andiamo a rappresentare e ad analizzare e quindi diciamo che siamo riusciti con 220 campioni ad ottenere una regressione rappresentativa della popolazione suoli della pianura padana riuscendo ad ottenere al momento in cui stiamo ancora lavorando questa equazione è ancora in miglioramento la filosofia stessa della predizione nir quella comunque di continuare in un miglioramento continuo di questa predizione comunque abbiamo ottenuto una correlazione tra il dato analitico e il dato predetto di 090 un riquadro di 090 direi molto buono e comunque un errore standard in calibrazione sotto il 3 che è l'elemento che ci può guidare nella valutazione di una montagna di una predizione o meno ecco oltre alla determinazione del carbonio organico abbiamo realizzato delle predizioni anche per l'azoto totale e l'azoto nitrico e appunto questa attività iniziata con il progetto LIFE sta comunque andando avanti anche per l'applicazione in altre attività sia altri progetti LIFE che dei progetti del PSR della regione di domande ora io passerei la parola a Laura Laura se vuoi posso continuare a mandare avanti io la presentazione sì Teresa grazie direi che è meglio così che intanto sono poche slide quindi direi che proseguiamo in questo modo sì allora io completo la presentazione illustrandovi quello che abbiamo fatto sempre su un discorso di contabilizzazione della dinamica del carbonio con un approccio che è invece un po' all'opposto di quello che ha appena descritto Teresa che è invece un approccio molto analitico invece abbiamo in questo caso utilizzato un metodologio di stima di quello che può essere la dinamica del carbonio in particolare abbiamo appunto voluto provare a testare due modelli di simulazione che sono fra i modelli più utilizzati fra i più utilizzati a livello internazionale e che appunto ci consentono di valutare quello che può essere su tempi lunghi l'evoluzione del contenuto di carbonio nel suolo cosa che nell'ambito di progetti quali possono essere appunto progetti anche live che pure possono avere una durata di 3-4 anni è difficile valutare proprio perché le variazioni di contenuto di carbonio sono dei processi lenti che quindi anche con campionamenti distanziati alcuni anni sono difficili da rilevare effettivamente quindi abbiamo appunto utilizzato questi due modelli uno è il ROTC che è un modello di derivazione anglosassone sviluppato da Rotamsted Institute che simula di fatto la dinamica del carbonio utilizzando come dati di input un limitato numero di parametri e lavora su una scala temporale mensile nel senso che richiede dati di input con una cadenza temporale mensile invece l'altro modello che abbiamo utilizzato è il DNDC che è un modello più complesso che è nato soprattutto per simulare la dinamica del protossido d'azoto nei suoli americani e che ha quindi proprio perché la dinamica del protossido d'azoto è molto più rapida richiede delle simulazioni su tempi molto più brevi ha una maggiore complessità di dati di input e lavora su una scala temporale giornaliera cioè richiede un input giornaliero dei dati inoltre è un modello che simula non solo il carbonio ma anche la dinamica dell'azoto in termini di emissioni di protossido d'azoto appunto ma anche di ammoniaca e di rilascio di nitrati nel suolo comunque in entrambi i casi di fatto i dati di input che sono assolutamente necessari sono quelli relativi alle condizioni climatiche ovviamente alla tipologia di suolo per quanto riguarda il contenuto di carbonio organico iniziale alla tessitura e poi soprattutto quello che sono gli apporti di sostanza organica apporti di sostanza organica che possono venire sia dai fluenti di allevamento che nel nostro caso sicuramente ma anche dai residui culturali sia quelli sopra terra che quelli sottoterra dovuti agli apparati radicali delle culture e poi in qualche modo tengono conto anche delle pratiche culturali non diciamo non sempre con grande dettaglio possibile però entrano anche questi aspetti possiamo passare alla prossima Teresa grazie e allora noi queste simulazioni questi modelli li abbiamo applicati in particolare sulle sistemi foraggeri i primi due sistemi foraggeri che ha illustrato Teresa che sono quelli relativi alle culture della nostra area cioè quella del parmigiano reggiano ovvero soprattutto ai prati stabili che come ricordava prima Teresa sono prati appunto che non hanno subito lavorazioni da tempi che possono anche essere oltre 50 anni quindi non sono mai stati erati quindi nessuna lavorazione e hanno siccome sono collegate le produzioni zootecniche sono naturalmente ricevono importanti apporti di sostanza organica dovuta agli effluenti di allevamento che vengono naturalmente ridistribuiti sugli stessi prati in generale non avviene nessuna fertilizzazione chimica proprio perché gli effluenti di allevamento sono sufficienti a portare gli elementi di fertilità necessari e anche non richiedono nessun intervento di diserbo quindi sono delle diciamo culture molto virtuose dal punto di vista dell'impatto ambientale e la nostra intenzione era vedere anche appunto dal punto di vista di quello che può essere la sostanza organica che abbiamo visto dai dati di Teresa è comunque già alta se si poteva pensare che questa sostanza organica continuasse in qualche modo ad accumularsi o insomma comunque quale possa essere la sua dinamica nel tempo e quindi abbiamo appunto utilizzato i dati aziendali per vedere in 5 in particolare adesso qua ci riferiamo a 5 diverse aziende nell'area del parmigiano reggiano e vedere quello che è la dinamica su tempi lunghi quindi abbiamo fatto una simulazione su un periodo di tempo di 20 anni con diciamo dati meteorologici in input che si ripetono abbiamo utilizzato una media degli ultimi 5 anni ripetuta naturalmente poi nei 20 anni quindi non ci sono modifiche per quanto riguarda i dati climatologici che tengano conto di eventuali cambiamenti climatici è semplicemente una ripetizione sia delle stesse pratiche culturali che della stessa climatologia cosa succede nel tempo e la risposta in generale del modello è stata che in questo caso è il Roth C che continuiamo ad avere comunque una crescita sostanzialmente in quasi tutti i casi della sostanza organica del carbonio organico stoccato nel suolo con differenza a seconda delle aziende le differenze dipendono anche un po' dal punto di partenza in cui ci troviamo nelle specifiche aziende nel senso che se la dotazione in carbonio organico è già molto alta in partenza gli effluenti di allevamento che vengono apportati i residui culturali delle radici consentono di mantenere un equilibrio di fatto invece nelle situazioni in cui magari la sostanza organica di partenza ancora non è così elevata possiamo avere anche delle crescite importanti del contenuto di carbonio organico che a seconda delle diverse situazioni sono variate fra dei valori di 0,3 fino a oltre una tonnellata di carbonio per ettaro e per anno in queste aziende poi un'ulteriore prova un'ulteriore simulazione che abbiamo voluto fare è invece vedere che cosa può succedere se da questa situazione diciamo virtuosa di non lavorazione e apporto di sostanza organica appunto importante noi passiamo a una situazione sempre sostanzialmente con una foraggera poliennale quindi non con arature annuali che era quella dell'erba medica abbiamo trovato a fare simulare una rotazione erba medica seguita da due anni di frumento per vedere cosa succedeva appunto facendo questa modifica alla pratica culturale e come si vede questa introduzione dell'erba medica porta a una perdita di sostanza organica del terreno che continua negli anni poi bisognerebbe vedere appunto questa cosa come potrebbe evolvere e che quindi sicuramente costituirebbe una pratica diciamo dal punto di vista del mantenimento della sostanza organica del suolo meno favorevole rispetto al mantenimento del prato stabile chiaramente non è detto che l'erba medica sia sempre qualcosa che porta a un impoverimento della sostanza organica dipende dal punto di partenza in un certo senso cioè da cosa va a sostituire l'erba medica perché se noi guardiamo una cultura di erba medica in sé che magari parte da un tenore di sostanza organica non tanto alto è probabile che la cultura dell'erba medica invece porti a un incremento del tenore di sostanza organica del suolo quindi è sempre un po' valutare ovviamente queste dinamiche in funzione di quello che sono anche le condizioni iniziali poi chiaramente questo è un modello di simulazione quindi non è detto che segua perfettamente quello che poi sarà la realtà anche perché anche nel nostro caso noi abbiamo fatto questa simulazione senza diciamo lo specifico avere la possibilità di validare queste misure queste stime che vengono fatte dalla modellizzazione quindi in sostanza insomma il messaggio è che ribadisce le osservazioni che sono state fatte anche stamattina che è molto importante conoscere sarebbe molto importante conoscere abbastanza dettagliatamente quello che sono le pratiche culturali che vengono attuate nelle diverse situazioni per poter fare delle stime più affidabili possibili di quello che può essere appunto il contributo dei suoli anche nel mantenere o comunque anche dare un'opportunità di ridurre di controbilanciare quello che sono le emissioni di gas serra con il fenomeno appunto del sequestro dell'accumulo della sostanza organica io qua direi che avrei finito sì noi abbiamo finito questo è il contributo che il nostro progetto potenzialmente potrà dare vi invito se vorrete a rimanere aggiornati su quello che faremo appunto sul nostro sito il progetto in teoria doveva concludersi a luglio di quest'anno con queste attività che sono ovviamente ferme da un paio di mesi non so come faremo anche per le ultime rilevazioni in campagna comunque diciamo che probabilmente alla fine sarà posto ad ottobre quindi se non vi dispiace utilizzeremo i nominativi dei partecipanti anche a questo seminario per informarvi di quelli che saranno i progressi del progetto grazie 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 e allora c'era una domanda di Mauro Piazzi che aveva perso i primi minuti voleva sapere il nome del progetto ma ho risposto che è stata già fornita da Eleonora di Cristoforo che ci segue in streaming quindi chiederei se ci sono altre domande da parte dei sì io Laura volevo volevo chiedere a Laura se il modello ROTC anche il DNDC l'avevate inizializzato per tener conto diciamo di quella che era la gestione diciamo degli anni passati quindi vedere un po' il valore iniziale di carbonio da dove derivava quindi se avete fatto questa inizializzazione del modello perché è abbastanza rilevante poi sull'andamento successivo diciamo dell'equilibrio o meno della sostanza organica sì per il ROTC che è quello di cui ho mostrato i risultati noi abbiamo fatto l'inizializzazione come richiede peraltro l'uso del modello cioè abbiamo fatto la procedura di inizializzazione per vedere l'inizializzazione no lo domandavo perché sì è curioso comunque che continui ad aumentare dopo tanti anni comunque anche di gestione della stessa gestione mi è sembrato di capire che erano gestiti già da parecchi anni nello stesso modo e quindi insomma è rilevante che continui a crescere che non ne abbia ancora raggiunto un equilibrio ecco questo era interessante sì di fatto il modello ecco dà questa risposta che continuerebbe ancora è chiaro sì c'è Roberta però non la sentiamo Roberta non ti sentiamo purtroppo puoi provare a scrivere nella chat la domanda la riporto io oppure dovresti uscire e rientrare nella virtual room no non ti sentiamo è successo anche prima ad altri purtroppo dovresti uscire e rientrare se vuoi puoi farlo la rimandiamo dopo la presentazione di Tommaso alla domanda magari intanto puoi provare a uscire e rientrare sì ok e Marina forse possiamo procedere sì se Tommaso si mi sentite ora sì ok allora procedo vedete vedete bene sì perfetto ok perfetto allora innanzitutto ok mi presento Tommaso Chiti sono del lavoro al DBAF all'università degli studi della Tuscia e mi occupo dell'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi terrestri in particolare dello studio delle dinamiche del carbonio nel suolo come vedete dal titolo ho cambiato un po' il titolo in quanto dovevo parlare di foreste ma non è il focus della giornata quindi mi focalizzerò sulle attività che come l'università della Tuscia stiamo portando avanti da alcuni anni per venire incontro alle esigenze del NIR dell'Inventario Nazionale degli Emissioni e degli Assorbimenti in particolare vorrei parlarvi dei lavori che abbiamo fatto per la ricolonizzazione naturale su pascoli e coltivi abbandonati in particolare sui pascoli dei risultati per quanto riguarda il suolo del progetto Life Metinet che è stato introdotto in alcune presentazioni precedenti e che ho avuto il piacere di coordinare dal 2016 al 2018 come Università della Tuscia e infine delle attività future attualmente che stiamo portando avanti per quanto riguarda la categoria Forest and Cropland con un caso studio specifico per la regione Marche che è quello poi che dovevo presentare ma partiamo con la ricolonizzazione naturale di pascoli e coltivi abbandonati e il primo lavoro di cui vi vorrei parlare è quello che è scaturito dalla tesi di dottorato del dottor Tellis dove abbiamo fatto guido in collaborazione appunto con me abbiamo individuato varie aree sulle Alpi in particolare tre siti nell'arco alpino da est a ovest Piemonte Trentino e Veneto e tre siti lungo la catena appenninica da nord a sud Toscana Abruzzo e Basilicata dove in ciascuna di queste aree abbiamo applicato un approccio delle cronoseguenze per capire l'impatto che questo processo naturale ovvero la ricolonizzazione dei pascoli abbandonati ha sul contenuto di carbonio organico dei suoli in particolare abbiamo individuato pascoli correntemente pascoli quattro stadi di diversi di ricolonizzazione naturale ovvero pascoli abbandonati a diverse età nel passato e infine uno stadio finale di foresta che si era sviluppata su un pascolo abbandonato molto indietro nel tempo solitamente sui 70 100 anni prima la metodologia che abbiamo applicato sono metodologie abbastanza consolidate per quanto riguarda il suolo abbiamo applicato il metodo di campionamento proposto dal Joint Restoration Center da Stolbovoi per certificare i cambiamenti di uso del suolo di carbonio dovuti a cambi di uso del suolo e per quanto riguarda la biomassa perché abbiamo fatto tutti e cinque pool di carbonio quindi abbiamo determinato i cambiamenti di carbonio a livello ecosistemico abbiamo applicato la metodologia proposta dall'inventario nazionale forestale quindi andando a evidenziare i punti salienti che abbiamo visto in questo studio sono innanzitutto che si osservano delle variazioni sostanziali tra i cambiamenti di carbonio che avvengono lungo gli appennini e quelli che avvengono nelle Alpi e quindi forse da mettere in relazione al diverso tipo di vegetazione in quanto sulle Alpi abbiamo tipicamente una almeno nei nostri casi di studio la vegetazione principale era conifere composta da colifere mentre sugli appennini erano tutti boschi di latifoglie un aspetto molto interessante che abbiamo evidenziato è quello come una grandissima quantità di carbonio sia contenuta negli strati più profondi nel subsoil cioè quello che si trova sotto i 30 cm di profondità i primi 30 cm sono la profondità minima richiesta ai fini dell'inventario nazionale delle emissioni e assorbimenti ma una grossa quantità di carbonio è stoccata anche sotto e molto spesso in questa porzione di suolo è quella dove si evidenziano i maggiori cambiamenti un altro aspetto interessante è il fatto che l'IPCC ovviamente propone come periodo di default perché si raggiungono stati o stazionario a seguito di un land use change sono 20 anni quello che abbiamo osservato è che invece questo cambiamento almeno per la situazione italiana lo stato stazionario venne raggiunto dopo 30-35 anni almeno sulle Alpi e dopo almeno 70 anni sugli Appennini quindi diciamo questo è un aspetto molto importante in quanto la ricolonizzazione naturale ha riguardato più di un milione di ettari in Italia nel periodo tra il 90 e il 2015 questi sono dei grafici che vi mostrano su tutto il profilo che arrivava a 70 cm di profondità perché sotto c'era la roccia madre divisi per Alpi e Appennini dove abbiamo P Pascolo i quattro stadi di ricolonizzazione F la foresta e sull'asse delle ordinate abbiamo il cambiamento proporzionale di stop di carbonio paragonato al Pascolo ovvero il Pascolo correntemente Pascolo che è il punto iniziale come potete vedere sulle Alpi con vegetazione di conifere i cambiamenti lungo la successione sono minimi anche se abbiamo degli incrementi questi incrementi non sono risultati essere significativi rispetto al punto iniziale il Pascolo sia per il top soil che per il sub soil e anche considerando il profilo totale che è quello poi riportato nella figura negli Appennini invece con vegetazione di latefoglie si osserva un graduale aumento che porta ad avere aumenti significativi nello stadio finale di foresta con circa 50 tonnellate di carbonio in più stoccata nei primi 30 centimetri che diventano quasi il doppio se consideriamo la profondità da 30 a 70 e in totale appunto fino a 70 centimetri abbiamo 140 tonnellate in più semplicemente dovute allo stoccaggio di carbonio organico nei suoli a seguito della successione naturale e tutti questi cambiamenti sono significativi rispetto al punto iniziale un altro studio che abbiamo fatto sempre sulla ricolonizzazione naturale ha riguardato l'intera provincia di Belluno dove abbiamo individuato 5 aree di studio su cui abbiamo applicato fondamentalmente la stessa metodologia che ho illustrato nel lavoro precedente quindi non mi dilungherò molto su questo però anche qui partivamo da Pascolo correntemente Pascolo avevamo solo due stadi di ricolonizzazione per finire allo stadio finale foresta la profondità totale del profilo in questo caso arrivava solo a 60 centimetri di profondità perché la roccia madre si trovava a quella profondità quindi quello che abbiamo visto rispetto allo stadio al lavoro precedente pur essendo sulle Alpi è che passando da Pascolo a Foresta si aveva una perdita significativa di carbonio per quanto riguarda solo il suolo nello stadio finale di Foresta questo sia per lo 0,30 cm questa perdita era ancora più profonderante nel subsoil tra 30 e 60 cm ora questo non implica il processo di mitigazione di wood encroachment di ricolonizzazione naturale porta sempre ad una mitigazione dei cambiamenti climatici almeno nel passaggio da Prateria a Foresta però per quanto riguarda Sfoolo in questo caso abbiamo osservato delle perdite che fanno sì che il potenziale di mitigazione totale dovuto al passaggio da Pascolo a Foresta almeno in questa situazione ovvero nella provincia di Belluno portasse ad avere dei potenziali molto minori ad esempio di quelli osservati nello studio precedente anche di 300 tonnellate di carbonio all'etero come evidenziato dallo studio precedente anche qui il massimo contributo alla mitigazione si può osservare solamente nel lungo periodo quindi dopo circa 70 anni dall'abbandono del Pascolo questo lavoro è stato di supporto alle politiche regionali del Veneto in quanto tutti i siti investigate avevano fatto richiesta al PSR della regione Veneto per varie misure sia quelle di mantenimento dei pascoli sia misure che prevedevano il ripristino dei pascoli abbandonati e quindi in questo caso c'è da fare molta attenzione perché il ripristino dei pascoli abbandonati anche se può portare ad avere i livelli di carbonio come quelli a un aumento ritornando da foresta a pascolo perché può riaumentare il carbonio sia una grossa perdita di carbonio dovuta all'asportazione della biomassa perché comunque appunto il processo di ricolonizzazione porta ad una mitigazione dei cambiamenti climatici infine per quanto riguarda la ricolonizzazione l'ultimo studio l'abbiamo effettuato nel Mugello in Toscana dove abbiamo considerato sempre considerando lo stesso approccio di campionamento e lo stesso approccio che prevedeva l'utilizzo di cronosequenze abbiamo investigato la conversione naturale da pascolo a foresta da cropland a foresta e da cropland a pascolo quindi quello che abbiamo visto è che essenzialmente le variazioni di carbonio dovute al cambio naturale di uso del suolo dipendono principalmente dal land use precedente quindi come possiamo vedere da pascolo a foresta abbiamo sulle 40 tonnellate di carbonio all'etano che si accumulano durante il processo i maggiori incrementi si hanno da cropland a foresta anche perché le cropland hanno notoriamente un minore contenuto di carbonio di partenza e quindi come si vede anche dalla figura riportata sulla parte sinistra l'incremento è quasi lineare e alla fine del processo si accumulano circa quasi 70 tonnellate di carbonio all'ettaro solo nel suolo comunque un buon contributo è anche dato dalla conversione ovviamente questa non naturale da cropland a pascolo quindi un cambio di land use però passando sempre a un land use che viene gestito come quello delle pasture in questo caso abbiamo investigato solo i primi 30 cm quindi non abbiamo idea del contributo del subsoil durante questo processo almeno in questa situazione però un fattore un punto molto importante che è venuto fuori anche da questo studio è che anche qui il massimo contributo alla mitigazione offerta dal suolo si ha dopo circa un periodo di 70-90 anni quando la foresta è ben instaurata la copertura forestale chiusa e la foresta si avvia alla maturità anche in questo caso punto molto importante è dovuto al fatto che ad esempio per la regione toscana come per molte altre regioni questi boschi di neoformazione che si sono sviluppati su pascoli o coltivi abbandonati possono essere tagliati ad esempio dimostrando che con un'immagine aerea degli anni 50 questo era un pascolo precedentemente o un coltivo quindi c'è da fare molta attenzione perché si avrebbe una perdita enorme di carbonio sia dal suolo ma anche dovuta all'asportazione della biomassa e quindi un ritorno immediato di carbonio nell'atmosfera brevemente parlerò anche di quello che abbiamo fatto all'interno del progetto Medinet che comunque è stato già ampiamente riportato durante la mattinata questo progetto era stato specificamente strutturato per venire incontro alle esigenze delle istituzioni che fanno l'inventario nei vari paesi del Mediterraneo e fondamentalmente per incrementare la quantità di dati per la categoria cropland e grassland quindi almeno per quanto riguarda il suolo quello che abbiamo fatto è raccogliere tutti i dati dalla letteratura scientifica e i database liberamente disponibili metterli tutti insieme ed armonizzarli abbiamo raccolto due database per la Spagna un database per il Portogallo mentre per tutte le altre nazioni ci siamo avvalsi dei dati da letteratura tutti questi dati sono stati messi insieme armonizzati per i primi 30 centimetri e a questo set di dati è stato aggiunto il database Lucas che è fino a 20 centimetri che però abbiamo riportato fino a 30 centimetri utilizzando dei fattori di conversione che provenivano dagli altri database che arrivavano fino a 30 centimetri dalla figura potete vedere la stratificazione che abbiamo fatto per la categoria IPCC cropland abbiamo suddiviso delle sottocategorie per cui avevamo il maggior numero dei dati ovvero colture annuali e per quanto riguarda le colture perenni abbiamo stratificato in oliveti pigneti e la categoria albero da frutto che comprende tutte le altre produzioni da arboree perenni e come potete vedere si hanno delle variazioni significative nel passaggio tra una e l'altra di queste categorie ora per venire incontro ai fini dell'inventario la stratificazione è stata fatta secondo le classi di suolo proposte dall'IPCC ovvero iActivityPlay e loActivityPlay per il lavoro che stiamo preparando però in collaborazione appunto Pellis sta preparando questo lavoro e abbiamo stratificato secondo la classificazione della FAO che comunque permette abbastanza facilmente di essere di ricondurre le varie classi a quelle richieste dell'IPCC ai fini dell'utilizzo all'interno dell'inventario possono ovviamente possibilmente essere strapolati anche dati di riferimento per l'Italia sia per le cropland che per le grassland a secondo dei diversi tipi di clima proposto dell'IPCC e diversi tipi di suolo ora questo database sarà a breve penso nei prossimi mesi liberamente disponibile ed utilizzabile per i più svariati fini immagino principalmente ai fini della modellistica quello che abbiamo notato raccogliendo tutta questa notevole quantità di dati si tratta circa di 8500 profili tutti i punti realmente misurati all'interno del bacino del Mediterraneo è la quasi totalità di assenza riguardo ai dati di gestione ovviamente c'erano dei dati di gestione ma il numero non è risultato essere sufficiente per arrivare a delle conclusioni statisticamente significative per rispondere a una domanda che era stata fatta stamattina per quanto riguarda l'Italia tutti i dati di suolo inclusi nel database che derivano principalmente dai dati Lucas che sono stati trasformati a 30 cm e i dati da letteratura scientifica sono stati collezionati in un periodo che va più o meno dal 2008 al 2018 quindi fondamentale è un maggior numero di dati riguardo la gestione di queste categorie e delle diverse sottocategorie infine mi avvio alla conclusione quello che stiamo portando avanti per quanto riguarda la gestione forestale stiamo lavorando su un PSR finanziato dalla regione Marche quindi lavoriamo a livello regionale su tutte le foreste della regione per riuscire a stabilire qual è l'impatto della gestione forestale e in particolare l'impatto della gestione forestale sostenibile infatti molte delle foreste che sono in via di certificazione utilizzando la procedura proposta dalla PAFC questo lavoro viene svolto anche in collaborazione con il professor Marchetti e il dottor Paolanti in linea di massima quello che vogliamo fare è una forte baseline di dati che stiamo già collezionando riguardo le foreste e la loro tipologia di gestione ma in ognuna delle cinque province che fanno parte delle regioni Marche abbiamo varie cronosequenze da foresta gestita in maniera diciamo convenzionale a foresta che viene gestita con tecniche selviculturali cosiddette sostenibili allo scopo di quello che vogliamo fare è principalmente applicare il modello century a queste foreste e per quindi su una buona base una forte base di dati costituita dalla nostra baseline e validare il modello attraverso l'utilizzo delle cronosequenze faremo quindi anche delle scenari futuri in collaborazione delle proiezioni future in collaborazione con il centro mediterraneo di cambiamenti climatici che si occuperà principalmente di fornire gli scenari futuri e appunto utilizzeremo il modello century così come proposto nel refinement 2019 dell'IPCC per cercare di vedere come si potrebbe andare verso un tier 3 nell'ottica del reporting per l'inventario dell'emissione degli assorbimenti similarmente alle foreste quello che stiamo cercando di fare non nella regione Marche ma siamo in contatto al momento con svariate regione è quello di applicare sempre il modello century però al settore agricolo sempre a livello regionale per valutare l'impatto che le pratiche agricole sostenibili che sono sponsorizzate e finanziate dalla comunità europea hanno sul contenuto di carbonio organico nel suolo questo è di notevole importanza perché la nuova PAC che entrerà a breve verrà diciamo valutata tutte le valutazioni saranno fatte sulla base della performance e quindi l'utilizzo di indicatori in particolare di indicatori che riguardano le variazioni di carbonio organico in relazione alle pratiche sostenibili applicate è di notevole importanza grazie per l'attenzione grazie Tommaso allora Saverio Maluccio su Youtube ti ringrazio perché stammattina relativa ai campioni utilizzati 2008 2018 e non so se ci sono altre domande da parte del gruppo collegato sì io avevo una volevo chiedere una cosa sono Lorenzo Davino ciao Lorenzo ciao Tommaso volevo volevo solo chiederti per quanto riguarda la ricolonizzazione la prima parte della della presentazione dicevi che il massimo andamento cioè il massimo cioè è più di 20 anni la cura e quindi lo steady state cosiddetto cioè l'incremento è maggiore sui 70-90 anni però volevo volevo chiederti forse l'ho perso io perché la connessione è quella che è però cioè se noi allungassimo ancora questo tempo cioè nel senso 70-90 dici che è il massimo di accumulo o è il massimo che avete misurato o lo avete riuscito a misurare diciamo allora sarebbe auspicabile che venisse cambiato non possiamo cambiarlo perché sono diciamo dei tempi fissi che vengono proposti dall'IPCC quindi per uniformarsi tutti devono usare questo tempo di 20 anni il fatto è che questa conversione non avviene in 20 anni quindi se lasci un pascolo abbandonato dopo 20 anni non avrai ancora la foresta la foresta ce l'avrai dopo una foresta ma tu chiusa in cui si chiude la copertura si inizierà a sviluppare fondamentalmente dopo 40 anni se parliamo dell'appennino e quindi in tutto quell'asso di tempo il carbonio tende ad aumentare poi ovviamente quando la foresta sarà chiusa e matura allo steady state quindi diciamo fondamentalmente ok non si può cambiare questo periodo di 20 anni però quello che diciamo rischio è che diciamo sottostimiamo il carbonio che riportiamo a seguito di questo land use naturale perché l'accumulo dovrebbe essere spalmato su un periodo di tempo molto più lungo perfetto grazie non so se c'è in linea Roberta magari recupera la domanda ci sono non so se mi sentite sì sì perfetto era una domanda per le colleghe del CRPA volevo sapere come hanno fatto a simulare la ratura perché ho visto che hanno fatto la rottura del prato per inserire delle simulazioni diciamo nel lungo periodo per inserire delle rotazioni come avete simulato la ratura con Rossi che non ha questa possibilità oppure non l'avete simulata e avete semplicemente immaginato magari un coefficiente di variazione del carbonio scusate è una domanda un po' tecnica ma sono curiosa sono Laura no rispondo io non l'abbiamo simulata di fatto cioè nel senso che abbiamo semplicemente modificato siccome appunto Rossi non consente di intervenire diciamo sulle lavorazioni del terreno ma considera gli apporti abbiamo modificato gli apporti di sostanza organica dovuto al fatto che la medica per esempio è una cultura che non richiede la fertilizzazione azotata almeno nei primi anni e quindi si riduce di fatto l'apporto di sostanza organica quindi la curva in calo è anche dovuta a questo effetto grazie c'è un'altra domanda per Tommaso che è arrivato da Mauro Piazzi queste valutazioni a scala regionale con centuri su cropland citate alla fine della presentazione utili per valutazioni delle politiche agricole sono state già realizzate? no come dicevo siamo in contatto con alcune regioni per avere un database su cui poter lavorare quindi no assolutamente no è quello su cui stiamo cercando di lavorare al momento grazie Tommaso e su questa cosa volevo dare un ulteriore pezzo di informazione nell'ambito della programmazione della nuova PAC il mini prof di concerto con enti istituzioni e altri ministeri ha elaborato dei policy brief che argomento per argomento tendono appunto a fare in qualche modo a descrivere un set di indicatori che sarà utile poi per la valutazione appunto della performance delle varie politiche che verranno incrementate e per quanto riguarda cropland e grass nel carbonio nel suolo abbiamo proposto che è stato inserito esattamente la stessa metodologia nell'ambito dell'inventario nazionale delle emissioni ovviamente che attualmente è stata fatta a scala regionale e sarebbe poi opportuno ovviamente far sì che nell'ambito del nuovo periodo di programmazione ogni regione si dotasse di sette autonomi di radio di informazioni in modo da effettuare una vera e propria valutazione dell'implementazione delle diverse politiche che implementerà nell'ambito della PAC marina posso intervenire certo ecco si mi collego anche a questa tua giusta giusta sollecitazione per dire appunto che io nell'ultimo slide che ho presentato oggi ho fatto ho collegato proprio a questa tematica questo tavolo diciamo di oggi riprendendo anche la sollecitazione di dottor Chiti a mio avviso mi pare importante sottolineare il fatto che un conto sarà la valutazione dei programmi che si stanno chiudendo ora a livello regionale e che anche all'interno di tutte purtroppo queste incertezze che stiamo vivendo probabilmente determineranno come noto uno slittamento di due anni della riforma della PAC come dire che queste valutazioni avranno una valenza regionale sicuramente ancora per due anni però voglio qui attirare l'attenzione diciamo mi riferisco con l'ultimo spunto di Chiti ma anche ai colleghi delle regioni che sono intervenuti piuttosto che tutti gli altri interlocutori che lavorano su base regionale prevalentemente di avere diciamo in qualche modo l'accortezza di ragionare rispetto alla nuova PAC in una logica nazionale perché si andrà su un nuovo assetto organizzativo che vedrà un piano strategico nazionale e quindi la raccolta di informazioni che siano fra loro comparabili otterrà due risultati uno di favorire miglior reporting ai fini diciamo del circuito chiamiamolo ambientale ma dall'altra parte verrà anche coerenza con il circuito della PAC che ripeto avrà una valenza nazionale partendo sicuramente dalle specificità regionali lo dico perché su questo versante ci stiamo impegnando ed è stato un po' il taglio che abbiamo dato alla presentazione che abbiamo fatto stamattina quindi sarà importante confrontarci e tenere un coordinamento diciamo del tavolo ministeriale che faceva accenna adesso Marina grazie Camillo ci sono altri interventi su questo o su altri argomenti ovviamente Guido ti vedo collegato devi intervenire io non volevo dire nulla in merito a quello che è stato detto da Carini però mi sono fatto una lista di punti in funzione di quello che è stato presentato sia questa mattina che questo pomeriggio e secondo me sul quale a livello nazionale dovremmo pensare di lavorare in modo più unito il primo punto è legato alla transizione intesa come transizione nel tempo e non nello spazio quindi ho visto che molti lavori si sono basati sulla comparazione degli stock tra diverse forme di uso soprattutto e in alcuni casi di gestione ma in pochi casi mi sembra solo in quello nella presentazione fatta da Kitty hanno tenuto in considerazione delle vere e proprie transizioni tra una forma di uso o di gestione lungo il tempo attraverso l'approccio delle cronosequenze questo è anche uno dei risultati ai quali siamo arrivati tramite il progetto Medinet e abbiamo notato che effettivamente comparare gli stock di carbonio tra diverse forme di uso non è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per calcolare la variazione degli stock in seguito a delle forme di transizione delle terre in particolare attraverso Medinet abbiamo visto che per esempio essenzialmente i seminativi sono distribuiti lungo le pianure e probabilmente in zone con suoli tendenzialmente più fertili per esempio rispetto ai fruttetti un caso che mi viene in mente è per esempio quello del prosecco in Val d'Obiadene tutti hanno presente le immagini dei territori dei territori coltivati a vite che sono generalmente su pendii alture o colline mentre i seminativi sono generalmente disposti in pianura questo era il primo punto il secondo punto è ho notato che i diversi gruppi di ricerca che hanno presentato questa mattina hanno una buona base di dati con database effettivamente notevoli per esempio mi viene in mente il lavoro fatto per l'Italia centrale però il punto è che sarebbe utile credo ai fini inventariali mettere su organizzare un database che sia condivisibile a livello nazionale e dal quale per esempio Ispra può attingere per appunto per migliorare le stime relative alla variazione degli stock di carbonio nel suolo su base nazionale mi rendo conto che tutti hanno la necessità tutti i ricercatori hanno la necessità di pubblicare e quindi la mia proposta è di creare un database costituito solo da dati effettivamente pubblicati e ogni volta che questi dati poi vengono utilizzati per altri progetti devono chiaramente essere citati il terzo punto mi è sembrato di capire che siamo ancora abbastanza in alto mare eccetto per alcuni lavori per esempio nel caso esposto dall'università di Milano per quanto riguarda l'effettiva variazione degli stock in seguito al cambio di gestione dei suoli e non cambio di uso un altro punto se posso andare avanti era legato sempre alla presentazione fatta dai colleghi dell'università di Milano relativa alla stima degli stock attraverso le due diverse metodologie una basata su volumi equivalenti e una basata su masse equivalenti per quanto riguarda cropland e grassland che sono usi del suolo sottoposti a diverse pratiche di gestione e che possono essere impattati per quanto riguarda le forme di aratura o le forme di comportamento penso che l'utilizzo dell'approccio basato su masse equivalenti sia particolarmente rilevante e in linea con quelle che sono le linee guida dell'IPCC non solo proposte nel refinement ma anche quelle delle linee guida del 2006 quinto punto relativo all'utilizzo di dati è la sovrapposizione dell'informazione relativa alla variazione degli stock di carbone nel suolo con un'informazione relativa alla transizione e quindi diciamo agli activity data su base spaziale mi sembra di capire che sia sempre più necessario che diventi obbligatorio dal 2022 in poi l'utilizzo di dati diciamo di activity data spazialmente espliciti ovvero di dati che abbiano un'informazione relativa sia alla transizione ma anche a dove questa transizione avviene e quindi penso che sia estremamente importante ai fini dell'inventario supportare il lavoro portato avanti da IOT negli ultimi decenni ed infine un punto interessante che mi ha colpito è legato alla stima degli stock non solo nel top soil quindi nei primi 30 centimetri ma anche nel suolo profondo ed è venuto fuori da diversi lavori presentati in questa giornata l'importanza di tenere in considerazione lo stock del suolo profondo e quindi questo potrebbe essere un punto sul quale si potrebbe migliorare nei prossimi anni per la stima della variazione degli stock a livello nazionale per quanto riguarda i suoli soprattutto in cropland e grassland e con questo io ho evidenziato quelli che hanno i punti che mi sono venuti in mente e che mi sono segnato in questa giornata e grazie Guido anche perché hai fatto un ottimo quadro anche di conclusione soprattutto di possibili di possibili input migliorative dell'inventare le nozioni delle missioni che ovviamente mi vedo più che contenta visto che in qualche modo sono tutti input che vanno a migliorare il lavoro che facciamo in Ispra allora andando per ordine c'è tutta una serie di persone che in qualche modo potrebbero rispondere vedo già collegato Giovanni Rabbate quindi comincerei con lui poi c'è anche il gruppo Roberta Farina e poi c'è il gruppo Airsaf Università di Milano Giovanni non si sente non sentiamo riguardo alla banca dati mi sento di anticipare probabilmente il progetto AGP Soil e Soilab sono due progetti Horizon 2020 nell'ambito del quale ci proponiamo a livello europeo tra varie nazioni coinvolte mi sembra siano 12-13 di sviluppare un applicativo di condivisione dei dati in ambito europeo e questo però sta iniziando quest'anno e quindi avrà il suo tempo per realizzarsi in cinque anni quindi spero che una volta realizzato porti proprio in questo senso quindi non sarà per il 2022 senz'altro ma per la successiva mi sentirei di poter almeno questo è il mio auspicio ci stiamo lavorando stiamo gettando adesso le basi per un applicativo di questo tipo in cui sia l'ExDAC a gestire questo database armonizzato secondo la normativa Inspire ma gestito localmente da ogni istituzione coinvolta quindi laddove sono le istituzioni regionali sono loro stesse che gestiscono il proprio database ma una parte dei dati sarà condivisa e pubblica e accessibile e quella sarà la base poi di calcolo per fare tutte queste valutazioni tutto qua grazie grazie Giovanni e sempre a questo punto riallacciandosi anche a IJP Soil direi di per intervenire Roberto Farina allora sì per quanto riguarda IJP Soil come sapete IJP Soil è un programma di ricerca non è un progetto pertanto all'interno di questo programma esisterà la possibilità di presentare dei progetti veri e propri progetti di ricerca nell'ambito di due tipologie diverse di call una tipologia è quella che verrà implementata entro l'anno e riguarderà coloro che già partecipano con IJP quindi è una cosiddetta call interna e quindi tra le persone che oggi sono presenti l'ISPRA i colleghi del CREA ovviamente e altri ora non mi ricordo chi altro ha la regione Lombardia sono già coinvolti dentro il progetto e quindi potranno lavorare alle call direttamente nel secondo anno del progetto sono invece previste delle call esterne in cui quindi ci sarà l'accesso per tutti considerate che come noi ci diciamo sempre tra di noi il progetto IJP è molto carboniocentrico quindi sicuramente ci sarà lo spazio per molti di noi e molti di voi diciamo di poter presentare dei progetti all'interno di questo grandissimo programma che ha un finanziamento veramente elevato perché arriva fino a 60 milioni di euro detto questo ritornando intanto permettetemi di complimentarmi col lavoro di tutti perché veramente nel giro di pochi anni sono stati fatti dei progressi veramente notevoli ma volevo dirvi che io sono stata informalmente incaricata di creare il gruppo di lavoro per l'indicatore sostanza organica incremento della sostanza organica nei suoli dalla MIPAF nell'ambito della rete rurale nazionale purtroppo poi gli eventi sono stati ci hanno precipitato diciamo in questa nuova situazione covid e non ho mai erano previste delle riunioni e non sono mai riuscita per i numerosi diciamo impegni a organizzare una discussione su questo molti di voi comunque erano stati inclusi nel mio elenco di coloro che possono contribuire a questo progetto nell'ambito della PAC sarà mia cura non appena insomma verranno chiariti quali sono gli ambiti in cui posso lavorare i finanziamenti che posso avere per questo per implementare questa attività certamente sarà mia cura informarvi e questo diciamo questa cosa questo incontro organizzato dall'ISPRA mi serve per capire ancora meglio in che direzione ci possiamo muovere per quanto riguarda questo indicatore in ambito PAC quindi ovviamente mi riferisco sulle isole agricoli è chiaro perché l'indicatore è proprio limitato al suolo agricolo addirittura in alcuni documenti si parla solo di arable soils ma ritengo che allargare i suoli agricoli sia una cosa che si può fare però su questo al momento più di queste informazioni generiche non vi so dire perché si è tutto un po' fermato e tutto poi interrotto però i soldi sulla rete rurale ci sono anche se non sono tanti e già erano stati individuati degli attori tra cui ovviamente c'è l'ISPRA ovviamente c'è il gruppo dell'ISMEA che già hanno fatto avanzare moltissimo i lavori ma vedremo di coinvolgere anche altri attori perché mettendo insieme tutte le conoscenze che ho sentito oggi veramente riusciamo a fare un lavorone quindi riterro informati e cerchiamo di sfruttare anche le JT soil per cercare comunque di finanziare ulteriori ricerche in ambito nazionale sempre sul suolo agricolo mi riferisco a questo quindi vi ringrazio e per qualunque domanda qualunque richiesta potete anche scrivermi per email roberta.farina e prea.gov.it e vi risponderò senz'altro grazie Marina e grazie a MISPRA comunque grazie Roberta e grazie anche per le informazioni che ci hai fornito sui vari quello che potrebbe essere il futuro ma il futuro prossimo chiederei al gruppo Brenna Schillaci di rispondere se possono a quanto chiedeva Guido si diciamo che almeno dalla mia parte e poi dopo alcune cose che posso raggiungere che oggi ovviamente sugli aspetti specifici che conosce lui intero ovviamente Roberta e Giovanni hanno già anticipato quello che era diciamo importante comunque ricordare e segnalare anche oggi a proposito dei bisogni quindi del progetto che anche per noi visto dal livello regionale deve essere effettivamente l'occasione per non tanto per realizzare vedremo se ci saranno le risorse per realizzare ma quantomeno per definire i criteri le regole la metodologia attraverso la quale costruire un database nazionale che non è solo un problema di condivisione dei dati è un problema di rendere il sistema un sistema copartecipato in qualche modo tra tutti i soggetti che quindi possono fornire informazioni e questo si porta dietro a tutta una serie di aspetti che vanno evidentemente che andranno evidentemente prese in considerazione e approfonditi per esempio dati dati utili ai fini di una contabilizzazione in generale di valutazione e verifiche dello stock di carbonio a mio avviso vengono possono venire da vari tipi di fonti da vari tipi di progetti c'è ancora di validazione di questi dati quindi ci sono molti aspetti tecnici poiché ovviamente andranno approfonditi oltre a questo aspetto dovranno essere secondo me affrontati i temi di come si misurano però gli stock e le variazioni degli stock perché insomma si entra poi nel metodo nel dettaglio ci sono moltissime evidentemente differenze ma anche sulla bibliografia questo è normale non è che mi scandalizza ma in qualche modo vanno definiti almeno dei riferimenti che ha per riferare ai quali riferirsi e credo che questo sia un aspetto importante e un po' come accennavo anche se fosse fortolosamente c'è anche un tema analisi di laboratorio noi qui abbiamo parlato di dati prodotti in periodi temporali molto lunghi analizzati con metodi di analisi spesso differenti con strumentazioni differenti in laboratori differenti senza nessun vero controllo di qualità rispetto ai dati ed è un altro grande tema questa non è una critica assolutamente vale per noi per primi anche semplicemente rimanendo in Lombardia per intenderci però è un altro tema che in qualche modo va credo affrontato però mi sembra che ci siano le condizioni adesso per poterci lavorare anche perché sono state accumulate molte esperienze che sono da questo punto di vista sicuramente utili insieme al tema del carbonio ma potrebbe essere fatto lo stesso ragionamento e qui vengo se puoi direttamente anche le domande su una massa equivalente piuttosto che un'equivalente non si può dimenticare tutti i temi che riguardano la densità pare niente perché se parliamo di stock non possiamo trasporarla e questo per certi aspetti è un tema sul quale c'è molta meno esperienza e molto meno dati quindi è ancora più complesso per certi aspetti potrebbe essere ancora più complesso per certi aspetti e anche il tema dei suoli in termini di quella parte dei suoli che non sono occupati da terra fine quindi sono scherdo piuttosto che roccia che incidono o possono incidere in modo significativo sui quantitativi degli stock magari non tant alle volte anche nei segnativi ci sono anche segnativi abbondantemente pietrosi ma sicuramente in tutti gli ecosistemi soprattutto negli ecosistemi almeno tutti quanti noi lo dico e lo chiudo per battuta quando le poche volte l'ho detto un'esperienza molto più limitata negli ecosistemi forestali ma quando uno andava a fare un profilo in foresta cercava il posto dove riusciva a fare un buco di almeno qualche decina di centri se uno fa il giro della foresta di spessori quello dove ha fatto il comune trova pochi e questa è una aspetto che insomma sfugge molto ed è anche molto difficile quantificare non so se Calogero ha qualcosa da aggiungere sull'aspetto specifico che era riferito al suo modo della moralità Allora ringrazio il dottor ha fatto un intervento diciamo calzante per quello che riguarda le misure sono totalmente d'accordo e se ci fosse stato il professor Akutis avrebbe anticipato che stiamo lavorando su un modello di previsione della densità apparente a scala del Mediterraneo con i dati del World's World Museum del WOSIS e quello potrebbe essere un approccio naturalmente si sa che gli approcci modellistici specialmente nella modellazione della densità apparente danno risultati diciamo limitati e quello che ho notato da utente come utilizzatore di dati regionali della regione Sicilia è che ci sono molte misure di densità apparente e che queste ci hanno concesso di calibrare meglio il modello quindi le misure laddove ci sono vanno utilizzate e nel caso in cui si presentano delle criticità bisogna come diceva il dottor Brenna andare a verificare e ricampionare e misurare e armonizzare il tutto grazie posso fare un brevissimo qualche breve domanda c'era qualcun altro? non che io sappia allora io voglio una questa ma molto rapida vado faccio in maniera molto semplice condivido io non sono un ricercatore non sono un professionista però ho coordinato una parte dei dati che Schillaci ha lavorato per il progetto cartesone della Sicilia per per il crea nella prescursione del regalamento regionale e posso dire una breve cosa sul tema della densità apparente il problema è che effettivamente avendo seguito penso qualche migliaio di profili quando arrivano campionati o da altri posso dire che il problema dell'attentabilità del dato esiste se pensate che molti di questi dati sono stati presi banalmente tirando delle grandi martellate a un a un cilindretto e buttando dentro e per cui si è a difficoltà riconoscere quali per singoli dati siano attendibili o meno questo a livello generale e siccome è un dato che influisce molto il dato che ha salvato per una delle analisi diciamo è fondamentale ed è difficile soluzione io avendo coordinato la carta di solito Abruzzo ed avendo loro lavorato tutto all'interno del laboratorio regionale mi sono trovato a verificare che altri soggetti parliamo della parte proprio l'istocenica collinare che fa circa un terzo dell'Abruzzo mi davano davano dei valori un po' differenti ma è chiaro che se tu passi dallo 0,9 all'1 1,1% i tuoi dati ti cambiano del 20% quindi diciamo che c'è un problema da questo punto di vista non si è che molte analisi anche se sono state fatte a suo tempo magari in da laboratori diciamo fuori da un controllo e da un ring test dei vari laboratori quindi utilizzando in queste banche dati nazionali a cui facevo riferimento in parte io in parte la BATE di Suoli abbiamo il problema di avere una grande difficoltà a capire la qualità dei dati io avendo lavorato da BESCREA e a un certo punto avendo dovuto fare delle verifiche mi sono trovato una serie di dati inattendibili perché poi si è capito con fatica dove era l'errore in GIPO qual è utilizzabile o quanto meno il problema della legacy data è importante soprattutto pensando a delle regioni che con la dismissione dei servizi regionali hanno smesso di fare attività importanti sui suoli e che quindi non possono aiutarci a migliorare la qualità dei dati di base salvo nuovi progetti che vadano a interagire per parlare di un problema che ha sollevato il professor Chichi sulle transizioni è vero che nei nostri ambienti appenninici parlando dei se andiamo sui carbonatici con i nostri rendoli lo spettifichiamo così e abbiamo delle transizioni diversissime pensando a tutti gli ambienti diciamo delle alternanze e dei e dei frisci effettivamente sono tempi estremamente estremamente differenti della colonizzazione del suolo e della evoluzione della foresta probabilmente perché dati appississimi immagino vi chiedo conferma siano studiati in altri ambienti che per motivi pedoclimatici abbiano diciamo evoluzioni abbastanza differenti non parlo delle Alpi che conosco poco ma parlo dei nostri appennini d'Italia centrale grazie massimo prima ho sentito che qualcun altro voleva fare una domanda era una breve domanda proprio a te Marina al vostro gruppo che esula un attimo da questi discorsi che abbiamo fatto così approfitto anche per ringraziare ma per tornare al discorso emissioni cioè al fatto IPCC un attimo volevo chiedere una curiosità io mi occupo anche di carbon footprint e quindi abbiamo dimostrato appunto come l'importanza della dinamica del carbone nel suolo ha un'influenza anche nella valutazione di farmi input e la carbon footprint di prodotti agricoli ovviamente normalmente come fattori di caratterizzazione si usa l'orizzonte temporale di 100 anni per il metano il protossido d'azoto per convertirli in CO2 equivalenti noi abbiamo visto a parte appunto le interessanti osservazioni di Tommaso sulla transizione e sull'allungamento del periodo però normalmente IPCC stesso ci parla di uno steady state di 20 anni e quindi volevo sapere come curiosità se a livello IPCC o se mai avete sentito parlare dell'ipotesi di utilizzare l'orizzonte temporale a 20 anni invece che a quello a 100 anni come standard insomma se c'è una discussione in questo ambito o se è assolutamente consolidato quello dei 100 anni allora forse provo a capire i 20 anni del periodo di transizione in cui faceva riferimento anche Tommaso prima fanno riferimento al periodo in cui una categoria deve essere considerata appunto in conversione prima di essere pienamente inclusa nella categoria in cui verso cui si sta convertendo quindi è un periodo semplicemente diciamo serve per contabilizzare per avere una classificazione delle variazioni di uso delle terre e quello sono 20 anni di default si può anche adottare un numero diverso a livello nazionale purché ci siano delle evidenze ovviamente scientifiche che supportino questo numero diverso faccio un esempio se non sbaglio in Inghilterra in Gran Bretagna utilizzano 50 anni come riferimento il problema è che se si utilizza un numero diverso bisogna risalire indietro dello stesso numero per cui noi dal 90 siamo risaliti fino al 71 non osa immaginare se utilizzassimo il periodo più lungo poi per quanto riguarda se ho capito bene tu fai riferimento ai global warming potential cioè attualmente quelli in uso nell'inventare nazionale delle emissioni sono quelli del quarto assessment report quarto rapporto di valutazione dell'IPCC con l'orizzonte temporale pari a 100 anni e questi saranno appunto quelli da usare fino al 2022 cioè fino al 2020 come reporting come anno di reporting che verrà appunto riportato nel 2022 con l'accordo di Parigi si sta ovviamente ridefinendo tutto il quadro cosiddetta di trasparenza comunque tutto il quadro di reporting che dovrà essere applicato a tutti i paesi quindi non soltanto ai paesi industrializzati come fatto finora e ovviamente uno dei punti in discussione sono anche le cosiddette metriche che appunto includono i global warming potential da utilizzare perché ovviamente adesso è in elaborazione il sesto assessment report che ovviamente ne prevede probabilmente cambierà questi numeri attualmente non c'è ancora un accordo su quale usare però comunque la cosa sicuramente che verrà fatta è che l'utilizzo di una metrica comune per un semplice motivo perché comunque l'utilizzo di una metrica comune è l'unica cosa che permetterà comparabilità semmo restando che nell'ambito delle tavole di reporting le tavole numeriche con cui vengono trasmessi i dati i vari i vari tassi i vari inquinanti vengono trasmessi in unità di massa per cui il totale esiste quindi se uno volesse adottare diverse metriche può semplicemente andare a prendere il totale di metano e riconvertirlo con altre variazioni ho visto l'uscita collegata le do la parola sì scusa Maria non mi sento no prima di tutto vorrei ringraziare tutti per le interessanti presentazioni ho trovato questo incontro molto interessante purtroppo non è dal vivo quindi ci troveremo a scambiare così in remoto solo un paio di precisazioni una che in realtà per l'accordo di Parigi per questa hanno deciso di a Katowice che si sarebbero usate le global warming potential del quinto sesto non lo vorrebbe ricordarne allora ovviamente il sesto potrebbero essere aggiornate però al momento questo crea un po' di problemi anche per l'Europa che ha basato tutta la sua politica di riduzione sul quarto come era stato definito appunto i regolamenti che dicevi tu dalle decisioni di cui faccio in menzione invece sulla parte volevo capire sulla parte relativa al refinement maria sa bene che questa cosa è molto difattuta sull'utilizzo del refinement per l'accordo di Parigi però è una questione interpretativa visto che è stata sollevata la questione i nuovi fattori sono fattori i ref i soc ref e tutti i vari fattori sono fattori che comunque nascono dalla revisione della conoscenza scientifica attualmente quindi aggiornata rispetto al 2006 quindi in teoria secondo il concetto di miglioramento continuo nella base scientifica potremmo utilizzare quelle del 2019 come aggiornamento ora che poi queste valgano nel contesto italiano è da provare insomma comunque da sondare se questi dati poi effettivamente migliorino le stime italiane ma non solo di convenienza proprio un miglioramento che siano più adeguati i risultati rispetto ai dati misurati che poi noi ci troviamo sul territorio italiano quindi magari quello è un aspetto da sondare noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo elaborato i dati quando ancora il refinement non era stato approvato quindi era in una situazione dinamica adesso secondo me potrebbe valere la pena vedere quali sono i risultati in base al refinement e confrontarli con i dati reali italiani non so se Marina cosa ne pensi insomma rispetto alla domanda di quali devono essere applicate che sono come detto del 2006 sì assolutamente sono d'accordo con te il fatto che non ci sia un obbligo nell'uso del refinement 2019 non vuol dire che i paesi non possono comunque usare parti parte della metodologia o dei dati che sono contenuti nel refinement faccio un esempio molto pratico che si ricollega a quanto facevamo prima tutta la parte di biomassa della stima della biomassa per cropland è basata su dei dati che poi sono i dati di Medinet che sono stati inclusi anche come dati per l'Europa nell'ambito del refinement quindi noi attualmente usiamo vero dati che vengono fuori da un database Medinet che ha un sotto database nazionale però di fatto stiamo usando dei default delle PCC del 2019 questo vuol dire che comunque visto che soprattutto nel 2019 quello che è dentro nei fattori di emissione è letteratura scientifica e comunque può essere usato tranquillamente dai paesi non è più lo sforzo che si è fatto nel 2019 rispetto al soprattutto al 2006 è quello di eliminare tutta quella che era la cosiddetta letteratura grigia che in qualche modo si trova in alcuni pezzetti del 2006 ovvero dei pezzi di informazione o dei dati dei fattori di emissione che non avevano un background scientifico oppure degli articoli solidi ma che magari si basavano su comunicazioni personali quello è stato eliminato e di conseguenza non c'è problema nell'usare il 2019 in toto o in parte c'è qualcun altro che vuole intervenire bellissima questa situazione perché vedo tutto grigio siete tutti nascosti ok peccato che non ci sia una chat no alcuni ce l'hanno alcuni ce l'hanno alcuni ce l'hanno alcuni ce l'hanno alcuni la vedono magari per i saluti ci possiamo mostrare tutti ci siamo tutti hai visto eravamo nascosti ma ci siamo stavamo tutti attenti no comunque veramente vi ringrazio moltissimo uno perché siamo riusciti a fare questa cosa che ormai era il programma da tantissimo tempo siamo riusciti a farlo in remoto addirittura con youtube che mi sembrava veramente un azzardo impressionante e soprattutto siamo riusciti e siamo andati lunghi anche nel pomeriggio cosa affatto non scontata quindi grazie del vostro tempo prima di tutto e anche dei vostri contributi e spero spero ma sono abbastanza sicura visto che bene o male riconosco tutti che sarà magari il primo di una serie di appuntamenti anche più specifici o a pezzetti a gruppi non so non perdiamoci di visto va bene naturalmente vi invieremo il link con tutte le presentazioni per poterle scaricare riguardare sì teniamoci appunto in contatto era l'occasione per conoscerci e continuare il lavoro insieme insomma era un po' questo va bene una domanda in formato per le presentazioni che cosa vi è richiesto pdf o powerpoint quelle che ci avete inviato in powerpoint le abbiamo già messe in pdf quindi non c'è problema le metteremo tutte in pdf va benissimo sono state già caricate sul link che adesso vi rimando perché per favorire quelli che erano collegati via youtube in modo da potersi scaricare le presentazioni e seguire più agevolmente sì adesso lo inseriamo nella cat di youtube il link e mandiamo a tutto l'indirizzario delle persone che sono state coinvolte anche quelli su youtube mandiamo il link anche a loro in modo che possano tutti fruire delle presentazioni e se avete altro materiale che secondo voi può essere utile condividere possiamo utilizzare lo stesso repository in modo che possa essere condivido come volete va bene va bene va bene tutto questo penso che possiamo condividarmi a tutti ciao grazie a tutti ciao 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 ciao